ci siamo in teoria benvenuto manu grazie è un saluto a tutti quelli che ci stanno vedendo anche quelli che stanno rivedendo questa diretta oggi ho un ospite molto speciale che è manu venditti di italy merisi che accento anglofono dovrei fare un accento australiano forse io lo chiamo italy made easy italy made easy italia fatta semplice come va buonasera a tutti o buongiorno dipende dove dove vi trovate dal dal fuso orario è da tempo che vogliamo fare questa chiacchierata da mesi che ci diciamo guardi io mi ricordo da ottobre ottobre dell'anno scorso che discutiamo la possibilità di farla ma abbiamo sempre avuto problemi cose importanti tipo io che sono emigrato piccoli piccoli eventi avvenimenti di vita che sono stati un ostacolo alla nostra diretta ma non importa ci siamo finalmente siamo è un piacere essere qui con te con il tuo pubblico e dimmi sì vorrei chiederti innanzitutto magari di presentarti per chi non ti conoscesse ma penso che tanti qui ti conoscano già anzi magari nei commenti scrivete se conoscete manu se conoscete il suo canale così facciamo un sondaggio allora mi presento sono manu o emanuele il nome vero e ho fondato Italy Made Easy non so quanti anni fa per aiutare gli anglofoni ad imparare l'italiano perché ho notato che gli anglofoni avevano particolari difficoltà con i canali che insegnavano l'italiano in italiano e quindi ho cominciato a insegnare la grammatica in inglese che è come facevamo anche all'università dove insegnavo l'italiano in Australia e poi il canale è cresciuto siamo stati molto attivi e poi molto assenti e ora è moltissimo che non pubblichiamo quasi niente sul canale questa è la prima volta che sono su YouTube quasi nel 2020 dopo quanto tempo ma tecnicamente ho fatto delle dirette all'inizio dell'anno e poi è uscito forse un video basta quindi siamo un po fermi ma siamo fermi su YouTube ma non siamo fermi altrove ovviamente chiaro chiaro anche perché avete creato un impero enorme di insegnamento dell'italiano infatti vedo già delle persone che dicono che che ti conoscono hanno fatto corsi con te quindi innanzitutto complimenti quindi per tutto quello che hai fatto perché anche tra i miei studenti comunque ti conoscono un po tutti quindi hai fatto le cose bene diciamo sono contento io credo guarda i nostri ruoli sono complementari nel senso che io lavoro molto spesso con anglofoni che sono principianti e li aiuto ad imparare l'italiano e poi o restano con noi perché anche noi abbiamo contenuti in italiano abbiamo un podcast in italiano abbiamo audiolibri eccetera oppure vengono da te perché il tuo podcast a mio parere è il migliore che c'è wow sono veramente da sempre l'ho sempre pensato mi piace e non ti ho nemmeno pagato pensa se ti avessi pagato per dirlo niente proprio niente un complimento veramente di cuore no da sempre grazie grazie mille mi piacciono gli argomenti che tratti e mi piace anche il tuo accento che è una cosa parleremo anche di questo allora era uno degli argomenti che ci eravamo detti di di affrontare qualche mese fa parliamo di tutto sì quindi allora io innanzitutto che ci sei mancato ah Cynthia grazie torno 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 hai già detto hai già promesso almeno a me hai promesso che tornerai a settembre a settembre torniamo con video quotidiani l'ho proprio detto è un annuncio ufficiale che stai dando qui in esclusiva soltanto per settembre e poi da ottobre torniamo con un palinsesto umano ci sta ci sta beh comunque i video vecchi ci sono quindi anche se potete iniziare da quelli credo di aver messo il link forse non so se dal tuo canale al tuo sito nella descrizione comunque ma non importa guarda io sono contento di conoscerti finalmente faccia a faccia e di fare sta chiacchierata parliamo di quello che vuoi io vorrei chiedere scusa al tuo pubblico se in caso questa stanza non è il massimo perché sono ospite a casa dei miei genitori quindi non ho tutta la mia tecnologia non ho l'aria condizionata forte quindi mi spiace sono vestito così perché fa caldissimo però ci siamo riusciti innanzitutto voglio chiederti prima di tornare indietro nel tuo passato come hai vissuto questo ritorno in italia perché per chi non lo sapesse tu hai vissuto non so quanti anni poi ce lo dirai in australia e ora sei di nuovo in italia quindi com'è stato stato il vero problema io non vorrei parlare di quella cosa di cui abbiamo parlato tutti per due anni però in australia abbiamo avuto un grande problema e che hanno chiuso i confini e quindi siamo stati prigionieri della nostra bellissima isola e quindi è la prima volta che torno in italia da tre anni perché finalmente hanno aperto i confini e quindi finalmente sono tornato in italia perché ero prigioniero dell'australia chiaro e quindi non hai potuto vedere nessuno la tua famiglia no completo isolamento è stato pesante ma tornare in italia è sempre bello ovviamente e rivedere amici parenti rimangiare le cose buone io ho una particolare mania per la frutta italiana soprattutto la frutta estiva e quindi è stato un buon impatto dai non sei stato ne avevi voglia sì tantissima tantissima voglia di tornare a casa qui e rivedere le persone care sicuramente bene bene immagino che c'è l'australia è considerato un po un paradiso no da fuori almeno deve essere un po strano essere prigionieri di un paradiso forse me lo dicevi proprio tu non so se hai usato queste parole prigionieri di un paradiso sì sì comunque vorrei tornare un po indietro nel tuo passato vorrei parlare un po di te di come ha iniziato quello che che è poi diventato il tuo lavoro la tua carriera ma ancora prima insomma insomma che cosa hai fatto da dove vieni dove sei nato da dove comincio proprio dall'inizio proprio sono nato in una calda estate non lo so allora io sono nato e cresciuto parzialmente in provincia di roma in un paesino sul mare un'ora da roma e tantissimi anni fa ma proprio tanti tanti anni fa vent'anni fa eh sì esatto vent'anni fa se questo video fosse girato negli anni ottanta allora sono cresciuto sono rimasto qui dove tutta la famiglia fino a più o meno sei anni poi ci siamo trasferiti al nord dell'italia vicino alle cinque terre che molti studenti conoscono come destinazione di vacanze perfetta e abbiamo vissuto lì per cinque sei anni poi siamo tornati qui in provincia di roma e e poi sono andato a studiare a trieste quindi l'università siamo già all'università troppo veloce no no vabbè dai adesso non dobbiamo neanche entrare troppo nel dettaglio se no di solito le mie dirette durano due ore quindi in realtà possiamo parlare di quello che il tempo ce n'è però allora no io ho studiato quindi hai un po' girovagato hai un po' girovagato per l'italia e questo questo giustifica anche il fatto che io stranamente non abbia un accento specifico esatto perché crescendo in provincia di roma avevo l'accento della zona quando ci siamo trasferiti in Liguria mi mi prendevano in giro perché avevo l'accento romanaccio romanesco chiaro non proprio il dialetto però comunque hai detto a che età ti sei trasferito in Liguria? non so se l'avete sei anni sei anni ok quindi avevo già imparato a parlare con la lingua del posto e poi arrivati in Liguria mi prendevano in giro perché avevo questo accento quindi con il tempo ho eliminato l'accento della zona di Roma e ho preso quello lì il Ligure quando siamo tornati qui a undici che avevo undici anni mi prendevano in giro perché avevo l'accento Ligure e quindi non va bene niente e alla fine ho detto sai che dico io parlerò italiano standard e alla fine ho parlato sempre italiano abbastanza neutro fino a quando all'università a Trieste ho fatto la scuola per traduttori e interpreti e quell'università era un'università molto internazionale ma soprattutto molto pan italiana c'erano studenti da tutta Italia perché all'epoca c'erano solo due facoltà dove laurearsi in traduzione Forlì e Trieste e quindi c'erano studenti di tutta Italia e facendo amicizia con studenti di tutta Italia tutti avevano il loro colore il loro accento il loro dialetto il loro italiano regionale e io no e quindi con il tempo ho reintrodotto un po' di colore nel mio parlato e adesso lui però di che regione? Roma un colore più romanesco un colore un po' più romanesco sì infatti sì quando abbiamo iniziato a scambiarci messaggi vocali su Whatsapp una delle prime cose che ti ho chiesto è lì dove sei perché hai un accento piuttosto neutro che non è come dire non è facilmente localizzabile io se vuoi ti leggo il telegiornale posso fare come ti leggo le news sì esatto poi anche la camera molto di alta qualità vorrei anche che il pubblico apprezzasse la qualità di questa diretta perché tu hai detto la camera e io ho pensato la camera da letto io sono ospite e questa è la camera da letto anche la camera da letto però intendevo la telecamera la videocamera la fotocamera ok ok sì è un po' un anglicismo dire camera perché in italiano in realtà però tecnicamente è una macchina fotografica tecnicamente è una macchina fotografica però è una videocamera forse perché in realtà fa sia foto che video quindi cambia nome in base a quello che faccio non lo so io la chiamo camera perché sono abituato a sentire in inglese quindi e mi piace perché è veloce però credo che credo che se mia madre ti sentisse dire camera lei non capirebbe vero penserebbe alla camera da letto penso che non sì penso che forse forse non capirebbe forse dovrei dire videocamera perché se sento telecamera mi immagino sai quella esatto quella così quella o anche quella così esatto la cinepresa quindi comunque no magari il pubblico apprezza anche la tua la tua camera tu mi avevi detto che avresti fatto questa diretta da un posto come dire quasi una caverna sembrava ma invece no ho detto che sarebbe stato un posto e ti uso un termine colorato accroccato un po' accroccato cioè perché non ho più il mio studio perché sono in vacanza e quindi è uno studio improvvisato diremmo in italiano no un po' improvvisato guarda te la metto pure sullo schermo questa parola io io sono non faccio niente accroccato improvvisato si dice anche un accrocchio un accrocchio tipicamente è una soluzione molto improvvisata per esempio nel mio caso ho la fotocamera su una cassa no? è una cassa un altoparlante e quindi sì è un bel accrocchio diciamo ma comunque tornando al quindi al tuo girovagare per l'Italia quindi ok hai fatto l'università hai detto traduzione interpretariato tra l'altro anch'io ma dai non lo sapevo ok questo non te l'ho detto per avere qualcosa di cui parlare all'università sì no anch'io ho fatto la ssml a Torino è quello che hai fatto tu aspetta la mia s... com'è? aspetta sslmit si chiamava ok scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori ah ok 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 no la mia scuola superiore è per mediatori linguistici però non so se poi è cambiato magari qualcosa a livello di nome denominazione e quindi tu hai studiato per fare il traduttore? io ho studiato per fare il traduttore e ho lavorato come traduttore io finita l'università ho fatto il traduttore per più o meno cinque anni dall'Australia lavoravo per una... non posso darti tutti i dettagli perché è un po' un po' segreto sta cosa però lavoravo per una... per uno studio legale che forniva la consulenza a una grande compagnia di telecomunicazioni italiana era una causa, una cosa di difesa legale e ovviamente non ero assolutamente preparato per quel tipo di lavoro però nel frattempo la telecamera di Davide si è spenta e si è tornato ok io ti avevo avvisato di questo problema sì 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 e oddio che dicevo? aspetta dicevi di questo studio legale che non ero assolutamente preparato per quell'argomento perché era terminologia molto legale e terminologia del mondo delle telecomunicazioni quindi con il tempo ho imparato e alla fine ho lavorato bene l'ho fatto per cinque anni però poi sono arrivato al punto in cui tutti i traduttori che io conosco arrivano e cioè quello che in inglese si dice burn out e in italiano come potremmo dire? so che nella psicologia oggi la chiamano sindrome da burn out burn out con un accento italiano burn out però non so se c'è una traduzione anzi adesso lo cerco mentre lo dici comunque sono esploso dopo cinque anni di traduttore o di traduzione e ho deciso di abbandonare sindrome da esaurimento professionale un po' più lunga però sì si dice che eri essere esauriti no? eri esaurito ero esaurito da... sì esatto e quindi alla fine ho abbandonato la traduzione e ho fatto una cosa interessante che ho abbandonato tutta la mia vita che avevo a Melbourne dove abitavo in Australia e mi sono trasferito in un altro posto in Australia ricominciando da zero e cercando tutti i lavori non professionali ok quindi dopo tanti anni di... però posso fare un salto indietro? perché sei arrivato in Australia ma non si è capito come è successo questo salto cioè... hai ragione sei andato lì per lavorare per questo studio? no 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 mi sono andato lì per scappare da Trieste adesso non me ne vogliate voi che siete di Trieste o voi studenti che amate Trieste perché vivere a Trieste era pesante era brutto era brutto ok l'università era a Trieste però non era un ambiente che mi piaceva più di tanto e quindi ogni anno cercavo una scusa per andare via quindi ho fatto uno scambio ho fatto l'Erasmus a Dublino ho fatto scambi a Malaga in Spagna ho fatto tantissimi scambi a Lisbona in Portogallo per non stare a Trieste e alla fine feci uno scambio di quasi due anni che non è uno scambio sono proprio andato a vivere in Portogallo e lì mi trovavo benissimo e quindi ho vissuto in Portogallo per due anni e poi sono tornato a Trieste per fare qualche esame in questo momento la mia migliore amica era in scambio in Germania io stavo tornando a Trieste prima di lei e lei mi ha chiesto Manu, io so che la nostra università ha uno scambio con l'università di Melbourne in Australia potresti andare a prendere i moduli i moduli quelli che in italiano, in inglese sono i forms quindi i moduli che anche in italiano ormai si chiamano i forms e lo so e lo so ma questo è un argomento per dopo magari e quindi alla fine io sono andato a Trieste ho parlato con il professore di inglese ho chiesto informazioni per questo scambio e ho preso i moduli da mandare alla mia amica quando ho visto i moduli ho pensato un altro modo per scappare da Trieste vado anch'io e quindi ho fatto la domanda abbiamo vinto la borsa di studio tutti e due e siamo andati a Melbourne in scambio abbiamo fatto lo scambio per sei mesi l'Australia si è rivelata il paradiso che tutti pensano che sia e dopo sei mesi abbiamo deciso tutti e due di restare altri sei mesi ci siamo iscritti all'università ci siamo laureati all'università di Melbourne e poi siamo rimasti per sempre in cosa vi siete laureati? eh questo è interessante perché è un… è una laurea che non esiste perché io all'università di Trieste avevo fatto 40 esami di linguistica, filologia, traduzione tutte cose molto complesse ma all'università di Melbourne non c'è il corso in traduzione non c'era il corso in linguistica e quindi mi avevano offerto un Bachelor of Arts in Spanish e io ho detto no 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 scusate io ho studiato portoghese più dello spagnolo io ho fatto… la mia università l'ho fatta in inglese e portoghese e poi come terza lingua ho fatto lo spagnolo quindi io non volevo una laurea in spagnolo che c'entra lo spagnolo? e quindi alla fine hanno inventato una laurea per me che… quindi sono l'unica persona credo ah cioè hanno proprio creato un corso di laurea appositamente per te praticamente sono… io penso di essere l'unica persona dell'università di Melbourne laureata in Ibero American Studies quindi studi ibero… ibero americani come dice ibero americani esatto perché in questo modo comprende sia il portoghese che lo spagnolo ah ok il portoghese brasiliano in… tutto beh no io ero laureato… tutto ciò che… insomma ispanofonia e lusofonia esatto quindi… io ero laureato con il portoghese europeo ah ah capito e quindi così sono finito in Australia pazzesco bellissima questa cosa che hanno creato una laurea per te cioè ma come… come funziona questa cosa? guarda l'ho tolta perché era qui sul muro in questa stanza dei miei genitori che come genitori italiani sempre orgogliosi le lauree di nostro figlio tutte le lauree di Manu io ho sostituito ci ho messo la placca di YouTube che è più importante della laurea eri di più alla placca di YouTube che alla laurea in studi iberoamericani comunque bellissimo questa cosa non so come tu abbia fatto però è una bella storia diciamo che io so… sono persuasivo so… so convincere sì la persuasione Jedi sì esatto c'erano alcuni commenti che volevo… a cui volevo rispondere sì per esempio uno più linguistico possiamo dire ero esausto sì ma ha un significato diverso è diverso perché esausto vuol dire semplicemente molto stanco fatica fisica fatica fisica anche mentale può essere sì però vuol dire stanco molto stanco mentre esaurito vuol dire proprio che psicologicamente… è più… è solo psicologico direi esaurito sì beh in italiano abbiamo il concetto di esaurimento nervoso è vero il breakdown il psicologico breakdown è un esaurimento nervoso credo direi di sì direi di sì esaurimento nervoso quindi… quindi sì eri… eri probabilmente anche esausto in un certo senso no? ma sì perché io lavoravo… però anche esaurito quando avevo una scadenza ragazzi io dicevo sempre di sì quindi loro mi chiamavano Manu abbiamo bisogno di tradurre questo documento di centottanta pagine e… fra quattro giorni ce la fai? sì 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 impossibile e quindi poi lavoravo venti, ventidue ore al giorno io lavoravo non stop, dormivo due ore e poi caffè caffè per quattro o cinque giorni e quindi ero… ero esausto anche sicuramente chiaro chiaro sì non è uno stile di vita molto sostenibile sicuramente no quindi tornando… ok quindi insomma ti si è prospettata questa opportunità di scappare da Trieste a proposito l'altro commento che volevo partire… ma perché scappare da Trieste? cosa c'è di male? chiede Guilherme effettivamente sì cosa aveva Trieste? era l'università? la città? tutto? non… non mi mettete in una posizione scomoda ragazzi no ma non c'è nessuno di Trieste… a parte anche il che voleva vivere a Trieste quindi io… allora… cambierai piante Trieste ha molti pregi è una città di… di frontiera è molto vicino alla… alla Slovenia, alla Croazia è un bel posto è una città molto piccola quindi puoi camminare, puoi andare a piedi quindi ha alcuni vantaggi ma per me abitando lì aveva più svantaggi che vantaggi il primo era lo smog una città incredibilmente inquinata non… non si respirava era proprio smog… spesso così era orrendo e poi… non sapevo questa cosa… non sono mai stato ammetto a Trieste quindi mi manca è… è carina ha… ha una zona molto… la zona del… del lungomare… la… piazza Italia… non si chiama… piazza Unità d'Italia… credo che si… piazza Unità d'Italia ha delle cose belle però poi il problema di Trieste per me personalmente… era la gente… allora perché… io credo… la storia… se voi non conoscete la storia di Trieste… Trieste è una città che ha fatto avanti e dietro fra vari paesi quindi Italia, Austria, Istria… e quindi anche se è una città italiana io credo che non si sentano molto italiani e quindi sono molto chiuti e un esempio è che a Trieste parlano dialetto tutti parlano solo il dialetto e a differenza di altri posti per esempio io sono appena stato a Napoli dove anche lì si parla dialetto però il momento in cui interagisci tu che non sei di Napoli in italiano di solito il napoletano parla italiano con te no? Mentre a Trieste non tornavano… non passavano mai all'italiano e quindi era solo… era solo dialetto e… sì esatto… non lo so non mi sono trovato molto molto bene mi sono trovato benissimo con i colleghi dell'università quello è chiaro ci siamo divertiti tantissimo però nella città stessa eravamo un po' un po' ghettizzati come studenti stranieri eravamo studenti stranieri così lì capito… quindi di tutte le esperienze che hai fatto in Italia Trieste è stata la peggiore quella in cui ti sei sentito… per esempio in Liguria ti sei sentito… benissimo… benissimo venendo comunque dal centro… immagino che ci sia una cultura anche… anche diversa però non hai sentito questo… un atteggiamento così di chiusura… io… io e mia sorella siamo un po' nostalgici della vita a Lerici Lerici è il paese dove siamo cresciuti che è vicino alle cinque terre e abbiamo… abbiamo solo ricordi positivi io non mi ricordo neanche… per esempio mia madre dice pioveva sempre io non me lo ricordo, io mi ricordo solo cose belle Solo il sole Era bellissima la vita a Lerici e anche la gente, io mi ricordo anche la gente, mi sono trovato molto bene con i Liguri Sì 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 sì, capito Bene, quindi… ok, quindi stavamo parlando poi di questo… insomma di questa opportunità di andare in Australia Giusto E quindi… e quindi sei andato Sono andato Hai fatto la laurea Sono laureato E avevamo già… eravamo già arrivati a questo punto, sono stato troppo indietro Esatto Hai fatto la laurea creata ad hoc per te Esatto, ho fatto il traduttore per 5-6 anni e poi… e poi ho deciso di non fare più quello Ok E sono andato a vivere al nord, in un altro stato, nella zona subtropicale Perché in fin dei conti a me piace il caldo, non piace il freddo e Melbourne è una città piuttosto fredda Il clima non è il massimo Fantastica città, bellissima, con uno stile di vita incredibile Però fa freddo E quindi io dopo 6-7 anni a Melbourne sono andato a vivere al nord, nello stato del Queensland Nella zona più calda E quando sono arrivato lì ti dicevo… vi dicevo, studenti che non volevo fare lavori stressanti Perché avevo fatto il traduttore Quindi io per la prima volta in vita mia, a 31 anni, ho fatto lavori che non avevo mai fatto Ho fatto il cameriere, ho fatto le pulizie negli alberghi, ho raccolto le fragole Ho fatto tutti i lavori in cui potevo stare tranquillo Soprattutto le fragole, raccogliere le fragole è stata l'esperienza più bella Il mio lavoro che hai fatto fino ad oggi Il massimo della mia vita è raccogliere le fragole Sì Ed è… e questa è la cosa interessante Se… perché so che tu mi chiederai dopo Come sei arrivato all'insegnamento? Perché insegn… ok E questo è il modo in cui sono arrivato all'insegnamento Allora, lavoravo in un ristorante indiano E è successo che mi ero rotto un piede o… no, un paio di dita Perché io quando faccio sport mi rompo le parti del corpo di solito E quindi mi ero rotto un paio di dita facendo surf E… e quindi non potevo lavorare nel ristorante E il ristorante mi aveva fatto capire che probabilmente mi avrebbero licenziato Perché se non lavori non è più lavoro E allora io sapevo che all'università di quella zona c'era un dipartimento di italiano Comunque insegnavano l'italiano Io non avevo assolutamente intenzione di insegnare Ma ho pensato vado lì, conoscerò un italiano e gli chiederò se conosce qualche ristorante italiano Per fare il cameriere in ristorante Ah ok, quindi tu eri sempre… Sempre lì, sì Con quella mentalità, insomma… l'intenzione di rimanere nella ristorazione Sì, sì E io mi ricordo… era piena estate Era gennaio, che in Australia è estate Caldo, torrido Vado all'università e non c'era nessuna ruota Perché in piena estate non c'era nessuna Ma nel corridoio c'era una porta aperta Un ufficio aperto Passo ed era l'ufficio del professore di italiano Ed è grazie a lui che avete un insegnante di italiano qui su Italy Made Easy per anglofoni E grazie a lui perché… com'è andata? Buongiorno, piacere, sono Emanuele Piacere, accomodati Parlando con lui, Francesco Un saluto a Francesco se ci sta guardando Parlando con lui, lui mi chiese Ma tu sei laureato? Sì In che cosa? In traduzione No, allora devi lavorare per me Io sto cercando insegnanti E mi serve qualcuno qualificato linguisticamente Se vuoi lavorare Puoi fare l'insegnante E io No Non è per me Non ho interesse a insegnare Non mi va di avere a che fare con ragazzini All'università Nella ristorazione Io ho un futuro Con le fragole Un futuro con le fragole Però E alla fine è stato divertente Perché era un colloquio al contrario Lui voleva darmi il lavoro E io No, 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 grazie No, no, no Alla fine Alla fine lui mi fa Lui mi fa Lui dice Lui mi fa Senti Prova Fai un semestre Se non ti piace Basta Finisci E allora ho accettato Ho insegnato per il primo semestre E mi sono innamorato Mi sono innamorato dell'insegnamento Dell'interazione con gli studenti Quindi mi sono innamorato di tutto È stata un'esperienza positiva Al cento per cento E quindi poi sono rimasto lì E ho continuato ad insegnare Con il tempo Sono salito di grado, diciamo Da semplice tutor Ho cominciato a creare i curriculum Perché in italiano Diciamo i curriculum Anche in italiano Al plurale Sì Curricula È un po' come dire È dibattuto Perché Esatto C'è chi dice curricula Per fare sfoggio di Esatto Conoscenze classiche Chi dice curriculum Al plurale Ok, ho la soluzione Invece di usare il latino Usiamo l'italiano Ho cominciato a sviluppare I programmi didattici Esatto Ecco L'italiano è sempre la soluzione Quando hai il dubbio con l'inglese O il latino Parla italiano I curriculi No, i curriculi No Mi sembra il napolano Curriculicula No, non mi piace No Va bene, i programmi I programmi E Poi ho sostituito Il capo del dipartimento Ogni volta che andava in sabbatico Insomma Ho fatto dieci anni di insegnamento All'università Fantastici Ed è In questo frangente Di dieci anni Che è nato YouTube Perché In pratica Mi Non mi andava di insegnare Sempre la stessa cosa Agli studenti principianti Perché Come sai Quando lavori con un principiante Anglofono Perché Questa è la mia specializzazione Nel senso So esattamente Quali sono i problemi Che ha un anglofono E quali sono I vantaggi Che ha un anglofono All'imparare l'italiano specifico No? E quindi Con il tempo Non mi andava di insegnare Sempre le stesse cose Mi chiedeva Senti Faccio un video Lo metto su YouTube E guardatelo E quindi Io ho creato i miei primi video In maniera molto Ma molto Ma molto amatoriale Per i miei studenti privati Per i miei studenti personali Così quando loro mi chiedevano Manu Che ne so Insegnami la pronuncia Vatti a vedere il video Beccati sto link E non rompere E non rompere E poi dopo Questo è successo Quando YouTube Ancora non era molto importante Era all'inizio E poi dopo un paio d'anni Sono entrato sul canale di YouTube E ho visto che i video Avevano molte visualizzazioni Allora ho cominciato a pensare Ok, allora forse posso insegnarlo Perché manca proprio A tutt'oggi Manca un canale specifico Per gli anglofoni Che hanno la difficoltà enorme Di imparare l'italiano in italiano Soprattutto da principianti Poi una volta che arrivano Una volta che arrivano Al livello in cui capiscono Allora ci sono i podcast in italiano Il mio, il tuo È pieno di podcast in italiano Ma finché tu l'italiano non lo sai È difficile Quindi tu insegni sempre in inglese? La grammatica Grammatica e la teoria linguistica Sempre in inglese, sì Ok Io mi metto nei panni loro Io sto studiando giapponese E io penso che come principiante Di una lingua straniera Che è diversa dalla mia Come l'italiano E non è vero Però per un anglofono Che è la prima lingua straniera Che impara L'italiano è molto diverso Quindi io da linguista Immagino che il giapponese Che è molto diverso dall'italiano Visto che io ho il vantaggio Delle lingue Più o meno la difficoltà La vedo simile, no? Fra, fra le due cose E io immagino che se io dovessi imparare la grammatica e la teoria linguistica del giapponese In giapponese Piangerei dalla mattina alla sera Perché non capirei niente Dei concetti difficili E quindi io faccio… come studente io faccio molta immersione di cose che a me interessano Quindi, per esempio, seguo youtuber giapponesi che vanno… che parlano di cose loro Che non so, di fitness Che parlano di… Chiaro, chiaro Di cose che a me interessano E lo stesso con tutte le mie altre lingue Io faccio molta immersione Ma mai la grammatica, mai gli argomenti difficili Eccetto… eccetto per le lingue che sono… che so già bene Ok, ok, capito E quindi all'università facevi più o meno lo stesso Quindi… Beh, no All'università… Guarda… Perché tu hai iniziato come tutor, hai detto Quindi… anche più conversazione, magari… Il tutor era tutta conversazione Ok E io proprio da lì ho visto il trauma negli studenti Che… primo semestre di italiano, prima lingua straniera Entravo io e un'ora in… un'ora, io ti giuro Un'ora di lezione per poter dire Io sono Emanuele e sono italiano E per… e loro che capissero e cominciassero a usarlo Perché? Perché era tutto in italiano, quindi… Buongiorno questa… la pantomima, no? Buongiorno Io sono Emanuele No, è… è purtroppo una questione di tempistica Ovviamente puoi imparare in questo modo Ma quando sei principiante è… è faticoso E quindi io proprio dall'esperienza all'università Ho visto la differenza quando facevo il tutor Che insegnavo in italiano e… nessuno capiva niente E quando facevo le lectures nella… nell'aula magna Come si dice in inglese? L'aula magna In the lecture room, lecture theatre Nell'aula magna Quando facevo le… le lectures, le lezioni Dove invece insegnavo in inglese Tutti capivano E quindi quando poi tornavano a lezione Ma ti spera che in inglese capiscano in australia Esatto Eh ma no, i concetti linguistici sono difficili Dici con il capito di contatto, ok Sono difficili perché… Sì sì, no, certo, certo Se non sei un linguista è complicato, no? Anche il solo concetto di… l'articolo Se… se non sai che cos'è un articolo e quando si usa nella tua lingua È complicato capire come si usa in un'altra E quindi da quell'esperienza ho capito che quello era il mio modo… il mio metodo E… e dopo dieci anni… E quindi hai dieci anni… Dieci anni università e poi a un certo punto evidentemente ti sei un po' stufato? No No Oppure volevi… Io guarda… Avrei continuato, però avevo capito che avrei potuto fare molto di più e raggiungere molte più persone su YouTube perché all'università quanti studenti avevamo in un anno? Duecento, non lo so, non me lo ricordo Sì Quindi il mio impatto era limitato a quelle persone E avendo già un piccolo pubblico su YouTube ho deciso di dedicarmi a YouTube e di far crescere quel pubblico e quindi aiutare più persone Perché alla fine… io non so per te com'è ma io credo che sia uguale per te perché vedo le tue manie, i tuoi interessi Io… per me non è importante che io insegni l'italiano Per me è importante che io stia insegnando una lingua perché è una lingua straniera Che è una lingua che a te interessa quindi l'italiano se ti interessa l'italiano Il francese se vuoi il francese, il giapponese se vuoi il giapponese Ma avere una lingua in più ti espande la vita Ti migliora le opportunità di interazione, di esperienze Quindi la mia missione non è tanto per l'italiano Ma è per dire ok, sai una lingua in più Adesso hai raddoppiato la tua vita Hai raddoppiato le tue esperienze E per me quella è la cosa bella Quindi sì, per me è più una missione linguistica generale Che specifica dell'italiano, credo Quindi se ti fosse capitata l'occasione di imparare Eh sì, di imparare, di insegnare per esempio il portoghese L'avresti... Sai che c'è? Io ho una preferenza personalmente di imparare da native speakers Da madrelingua Quindi mi hanno chiesto molto spesso Manu perché non mi insegni il portoghese O perché non ci insegni lo spagnolo Io preferirei... io preferirei imparare lo spagnolo da... da un madrelingua spagnolo Quindi non mi sono mai interessato a insegnare altre lingue Quindi per insegnare preferisco insegnare l'italiano perché è la mia lingua Non vuol dire che io sia un esperto Nel senso... anch'io faccio errori come tutti Anch'io ogni tanto ho qualche dubbio linguistico Ma io credo che la passione che io porto nell'insegnamento è più la... il senso di come imparare una lingua Non come parlar... parlarla perfettamente Perché neanche io la parlo perfettamente Perché come si dice mi si impappina la bocca Chiaro, chiaro Come si... cos'è impappinarsi? Ma è un verbo italiano o è romano? No, no, è italiano, italiano Per l'altro ho notato... ho notato questa cosa Dimmi Che... nel senso il romano, le espressioni romane Adesso apro una parentesi che non c'entra nulla Le espressioni romane sono generalmente molto comprensibili in tutta Italia A parte le cose molto colloquiali È vero E quindi i romani sottovalutano la capacità dei non romani di capirle No, si pensa poi di romani che dicono Eh, non so se... non so se la capisci Non lo so, per esempio impappinarsi adesso Non è per criticare te o... Però in realtà è una cosa comune, no? Che ho notato I romani pensano che sia tutto un po' romano Poi vabbè, tu sei italiano, pane italiano Però non ti sei notato questa cosa Tantissimo, io sono appena tornato da un'esperienza a Napoli Dove mi sono visto con il team di Italy Made Easy Ed è stata un'esperienza bellissima Ma la cosa interessante, abbiamo passato tre giorni insieme E in tre giorni abbiamo fatto semplicemente mangiato Febbre E poi abbiamo passato tre giorni a fare questo Ma da te si dice così? Ma tu capisci questo? Ma come lo pronunci tu? Perché eravamo due napoletane Io pan italiano o comunque zona Roma Una siciliana e una bolognese E per tre giorni abbiamo fatto questo Dicevamo una parola e poi... ma anche da te si dice? Certo, certo No, è bellissimo, è bellissimo È bellissimo, è bellissimo, sì Ma io vorrei... io credo che il motivo per il quale il... Allora, tecnicamente il dialetto di Roma è romanesco Però, diciamo, la parlata romana Anche non necessariamente dialettale, non il dialetto Quindi la parlata romana Io credo che sia molto comprensibile in Italia per due motivi Uno è che non è molto forte come dialetto Non è molto... linguisticamente non è tanto diverso dall'italiano Però secondo me il vero motivo è perché... Il romanesco viene dal fiorentino per motivi storici Esatto Però secondo me è perché per tantissimi anni la maggior parte dei comici italiani erano romani E quindi penso che l'umorismo dei romani e quindi la lingua parlata dai romani abbia raggiunto un po' tutta Italia Per il fatto proprio dei comici Certo, certo, i comici, i film, insomma, tantissimi personaggi romani famosi Poi è la capitale, quindi è normale che abbia una certa influenza Però è vero il fatto che comunque sia anche comprensibile di base Fa sì che, insomma, sia tipicamente comprensibile da tutti Poi a volte, magari alcune espressioni vengono davvero da Roma Però io non lo so a volte, cioè... Alcune cose si capiscono e... Magari... Sono sparito di nuovo Però ti sentiamo ancora Magari... Torno? No, non torno Torna, torna fra noi Torna Ecco te Magari... Magari a volte intuisci che sono un po' romane, però le sai No... Oggi stavo parlando con i miei studenti, il gruppo dei miei studenti su Telegram della parola daie Scritto con la J e con la I Certo, certo E... Dove scrivere? Insomma, è romana, però la conoscono tutti in Italia Sì, dai Direi che la usano anche in molti Magari in maniera un po' ironica Però è diventata italiana praticamente Sì Per chi non sapesse, dai è un po'... Beh, in realtà il romano ha tanti usi Tantissimi Però è un modo di incitare, di spronare, incoraggiare Oppure di un'esclamazione di, come dire, per quasi... di felicità anche, insomma, tanti usi È di tutto Felicità, disappunto, puoi indicare tutto E dai, è... Esatto E basta Quindi anche il negativo, no? Oltre che il positivo Sì, sì, sì Vabbè, comunque Ma ascolta, c'è una cosa della mia zona che, soprattutto quando torno qui Io comincio a usare molto spesso perché mi piace usarla e volevo sapere se da te si usa Usare mo per dire adesso E mo che facciamo? Eh, non so se hai visto la domanda di Ronald Ah, ecco, no, Ronald, perfetto I romani usano mo, esatto Complimenti, è vero Io uso mo Quando parlo con la famiglia e gli amici io uso mo, non dico adesso Io non dico quasi mai ora Sì Per me è adesso o mo Adesso ti dico, ho visto solo che c'è stata anche una donazione Non sapevo che potessero arrivare Quindi ringrazio davvero Grazie Che chiede di la spiegazione di ormai Magari possiamo provare a farlo anche se non è facile, però dopo Prima parliamo di mo Ormai, eh, sì Sì Quindi tu lo usi Tu dimmi un attimo, ridimmi di che zona sei, così ce lo ricordiamo tutti Torino, no? Sì, scusa, stavo bloccando un utente che Sì, sì C'è stato un momento di spam estremo Eh, vabbè, capito Io sono di Torino E Torino, come dico spesso, è un po' un È una città che ha avuto tanta influenza da Un po' da tutta Italia Per via dell'immigrazione che ha ricevuto dagli anni sessanta in poi Eh, per via del fatto che era, adesso meno, però era una città industriale Le Fiat si facevano a Torino, le auto, quindi Tantissima gente veniva a Torino da tutta Italia, dal centro, dal sud, da Anche dal Veneto Sì, anche dalle isole Tantissimi siciliani anche Quindi, ehm Ci sono alcune espressioni che sono entrate nel linguaggio della La mia generazione, di mio fratello, magari Io direi, se dovessi fare una stima, direi Magari anche dei quarantenni di adesso, i quarantenni torinesi Se fai un calcolo Perché sono i figli di Giusto Di quelle Di genitori Di coppie miste, diciamo Quindi a Torino è comunissima avere un genitore siciliano Uno veneto, uno calabrese, uno pugliese Quanti genitori ci avete voi? Esatto Abbiamo sette e otto Due Ok, va bene Io sono un po' un'eccezione da questo punto di vista Perché i miei genitori sono entrambi piemontesi Ok È davvero strano Ti assicuro che è molto strano Però comunque linguisticamente ci sono tante cose che Del modo Del mio modo di parlare che non sono piemontesi Perché alla fine è risaputo nella linguistica che uno impara la lingua soprattutto Uno parla soprattutto come parlano i peers, i propri coetanei, i compagni di scuola eccetera Non tanto i genitori E quindi ci sono cose che i miei genitori assolutamente non dicono Per esempio Mo Io ho sempre usato Mo Che non è tradizionale assolutamente in Piemonte No E però direi che le persone come me, torinesi come me, perché se vai da altre parti in Piemonte magari è diverso Diciamo lì c'è stata meno mescolanza Meno immigrazione chiamiamola Meno immigrazione, sì, meno immigrazione Però a Torino sì, si usa, quindi è molto molto comune E... Ma anche altre cose Ripetiamo Per chi non avesse capito, sì Mo è un sinonimo di adesso o ora Quindi invece di dire e adesso che facciamo e mo che facciamo E mo, esatto E mo E tra l'altro se non... Cioè C'è un po... Spesso c'è lo stigma nei confronti di... Soprattutto al nord c'è un po' questo stigma che molti hanno pregiudizi nei confronti di... Modi di dire, di accenti del sud E... È una cosa che ovviamente io non condivido però è una cosa che esiste secondo me E quindi magari c'è gente che pensa che Mo sia sbagliato, non sia italiano eccetera Però se non sbaglio Mo lo usa addirittura Dante È molto molto antico Quindi è italiano Chiaramente è un registro un po' più informale rispetto a ora, adesso Però è italiano Io mi chiedo Da dove viene? È forse momento? Ti vuoi dire momento? Se non sbaglio viene da... Che può essere? Modum Modum, ok Adesso... O da modo, scusa, modo Modo in latino voleva dire ora, adesso Ah, ok Vabbè, hai visto Perfetto Molto semplice Da modo, Mo Quindi... Anche con la O chiusa, Mo Mo Forse dipende anche dalla regione però A Roma è sicuramente Mo È Mo con la O chiusa? Sì, è Mo È Mo È Mo Giusto, sì Se si usa in Sicilia questo Penso No, non si... Guarda, io l'ho chiesto alla nostra siciliana e ha detto di no Mi pare di no Confermerò quando riguardo i video che abbiamo registrato Se qualche siciliano fosse qui presente ci può dire Comunque complimenti Ronald per aver notato che a Roma si usa Mo E sempre Ronald ti chiede, ti senti romano o italiano? Mi sa che Ronald si è collegato un po' dopo quindi forse non ha sentito un po' la tua... la tua storia però... Comunque no, io... È difficile, lo sai che c'è? Io sono abbastanza camaleontico perché io mi trovo bene, eccetto a Trieste, mi trovo bene ovunque io... ovunque io vada Non mi sento a Triestino, quello lo escludo Allora, però... io quando sono qui nella provincia un po' non mi sento... mi sento romano nel senso che io sono nato e cresciuto qui Però il fatto di non parlare esattamente come i miei peers, come dicevi tu Sento che c'è un po' di differenza e quindi mi sento più italiano Non è una questione di... non sono... di campanilismo o non campanilismo Quindi tipo patriottismo o no Non me ne frega niente a me di queste cose Però io penso... ci sono momenti in cui mi sento romano O meglio... nettunese perché io non sono di Roma Sono del paesino, ok? Che si chiama Nettuno E quindi mi sento nettunese Perché comunque conosco la storia del paese Conosco i posti, conosco l'evoluzione del paese Conosco le persone Però a volte mi sento quindi del posto Generalmente mi sento italiano Però poi quando sono in Australia io mi sento australiano Perché comunque sono integrato ovunque io vada mi integro E quindi non lo so E questo perché in primo luogo sai la lingua e l'hai imparata ovunque sei andato, immagino Sì, sì Io se posso dire un mio grande problema, un mio grande difetto è che ho la mania delle lingue Ma non ho molto tempo per imparare... per impararne altre E quindi sono un po' fermo con le lingue che ho E io non guardo film e non leggo libri tradotti Anche se ero traduttore io leggo soltanto versioni originali Quindi io posso soltanto leggere libri in lingue che io conosco Non mi leggerò mai un classico russo perché io non parlo il russo E lo stesso vedo che ho una tendenza a visitare paesi in cui io riesco a esprimermi Quindi paesi di cui io conosco la lingua Per esempio sto per andare in Messico e vado tranquillo Perché so che in Messico è come se sto a casa Non mi sento fuori luogo se conosco la lingua Io credo che questo sia il motivo per il quale tutti i tuoi iscritti e i miei ci seguono Perché sappiamo che quando conosci la lingua ti integri di più Ti senti più tranquillo no? Anche una questione di tranquillità Mi sento tranquillissimo Io vado in Messico Preoccupazioni zero Se ho un problema so risolverlo Se conosco gente posso diventare amico Se riesco a fare tutto Perché? Perché ho la lingua Certo Sopravvivi Sì Magari proviamo a spiegare ormai che ci aveva chiesto Visto che hai lasciato una donazione mi spiace Spiegalo tu perché io non so spiegare in italiano No neanche… allora io non ho mai fatto un video su ormai Allora facciamo qualche esempio poi magari da partire dagli esempi possiamo come dire tirare delle conclusioni Allora il punto di partenza è che uno dei significati di ormai è arrivati a questo punto Quindi per esempio ormai è troppo tardi Esatto Arrivati a questo punto è troppo tardi Quindi ormai nel senso di arrivati a questo punto Questo è il significato principale no? Esatto Quindi io consiglio di ricordarsi la frase ormai è troppo tardi Perché è proprio un esempio perfetto Quindi non lo so Volevo fare una passeggiata ma poi che ne so ho dovuto fare altre cose Ormai è troppo tardi per uscire perché è buio e fa freddo Ok non è l'esempio giusto visto il caldo italiano Esatto Comunque ormai è tardi non è… sì non ha più senso fare questa cosa Ci sono altri usi di ormai? Aspetta apro il dizionario così Forse… forse non più Tipo nel senso di ormai… ormai non parlo più francese Però no E comunque arrivati a questo punto non parlo più francese uguale Sì Mi si è staccato la cuffia Scusa Senti? Sì vai vai Per esempio un esempio del dizionario ormai ormai siamo arrivati ma anche lì si potrebbe un po' parafrasare con… a questo punto siamo arrivati no? Un significato che da qui è per esprimere l'impossibilità di indugiare oltre… Wow Ovvero la rassegnazione a una realtà che non può più mutare È tutto questo se ci pensi È giusto Sei rassegnato Sì Sei rassegnato Questo… questa effettivamente è un'accezione Sei rassegnato Sì A una realtà che non può più mutare, non può più cambiare, quindi… ormai non voglio più… che ne so… Sì no, ok, tu mi hai invitato a cena, io sono in ritardo, sono in ritardo, sono in ritardo, poi tu mi chiami, senti Manu, ormai non venire, basta Esatto È uguale, non venire più Se lo usi così c'è anche un po' una sfumatura di risentimento, no? Sì esatto Guarda ormai lascia perdere Ormai non venire Ormai non venire, lascia stare Sì Iermi dice in questo momento… però non è solo in questo momento, perché in questo momento è più neutro No In questo momento… Sto parlando Sto facendo una diretta, sono con Manu in diretta, però non potrei dire ormai sono con Manu No Lo direi per esempio se… che ne so, mia ragazza mi dice… due minuti prima della diretta mi dice… ma vuoi andare a prendere un gelato? Ormai devo fare la diretta, è tardi, no? A questo punto non posso più farlo Guarda questo… questo è il vantaggio di avere un pubblico anglofono, perché parlando con un pubblico di una lingua posso in alcuni casi dire guarda, pensa by now By now più o meno funziona quasi sempre Infatti Shelby dice by now Esatto Poi con l'immersione, quando… ascoltando italiano, poi impari tutte le sfumature, perché non sempre è una traduzione al pari pari, by now ormai, non sempre Nessuna lingua… No, infatti Nessuna lingua è bilaterale Mai Uno a uno Mai In alcuni contesti sarà by now, in altri sarà at this point, in altri qualcos'altro Però, come punto di partenza, a un anglofono gli posso dire pensa by now e poi impara tutto il resto con l'inversione Certo… però è vero, non bisogna tradurre… No, no… Pensare che ci sia un traducente che va sempre bene, anche perché ormai è tardi, non diresti by now it's too late? O forse sì, non lo so, io direi solo it's too late e basta Sì, sì, infatti Now it's too late Alla fine in ormai c'è ora Esatto Quindi c'è un po' quel… no, c'è l'elemento di ora, però non è solo ora E poi… Per il fatto della… del non tradurre da una lingua all'altra, in generale, anche… anche gli oggetti che uno pensa, vabbè, telefono… No, perché uno non sa mai il contesto in cui una parola viene usata, no? Per esempio tu dici table, tavolo Ma poi ci sono altri casi in cui table è tabella in italiano Perché è un altro tipo di table, non è… Quindi mai andare con l'idea traduco una parola… però come punto di partenza, soprattutto per le espressioni complicate Tipo ormai, magari, mica… tutte queste qui che gli studenti adorano, perché io non so quante volte al giorno ci chiedono Spiegaci ormai, mica, magari… Allora in quel caso dare un punto di partenza può aiutare di riferimento Comunque il mio consiglio in questi casi è anche di andare a farsi un giro su reverso E lì trovi tanti esempi che magari aiutano un po' a chiarire gli ambiti d'uso, no? I contesti d'uso delle parole, delle espressioni Quindi speriamo che sia soddisfatto Z-O-Zo-Zo-Zo Non so come leggere il tuo nome Non so se abbiamo fatto un buon lavoro Diceva addirittura It's haunting Cioè è proprio un'ossessione Non dorme la notte pensando a ormai Non so se abbiamo aiutato Comunque speriamo di sì Io credo a volte è possibile che si usi da solo Nel senso io esordisco con e ormai? Esiste questo… la possibilità di dire e ormai? Quindi tipo… Beh forse è implicito e ormai che cosa pensi di fare? C'è sempre qualcos'altro, no? Non era un contesto realistico Dimentica Sì, non mi… non… No No, no Non è qualcosa che io direi Magari direi è mo' È mo' che fa mo' Sì, sì Ok, ne ho un'altra… ne ho un'altra che… Di nuovo io penso sia romanesco Embe? Lo conosci? Cioè non lo conosci, lo usi? Sì, sì, sì Embe? Lo usi? Non so se lo uso così tanto però ci sono persone che lo usano Ok Quindi sì è assolutamente comprensibile È anche usato Embe, allora… E io non so se è romano perché come ti dicevo rientra in quel gruppo di parole e espressioni che magari lo sono davvero romane Sì, sì Però le capiscono tutti direi Sì E a volte i romani non hanno questa percezione di quanto siano diffuse fuori Roma Cune cose che magari sono davvero romane Allora, per chi non conoscesse Embe, se tu lo scrivi, nel frattempo Embe Embe È come dire… E con questo? Che intendi? Embe? E quindi? E allora? Sì Oppure pensavo anche Embe tipo… ti dai una mossa? Ah sì, ok Che anche questo è da spiegare Embe? Vieni tipo… Non so… Allora? Sei pronto? È tipo se io fossi arrivato mezz'ora, come dire, alla diretta, non ti avessi dato notizie di questa diretta, tu magari in me avresti scritto o avresti potuto scrivere Embe, iniziamo? Sì Quindi… Poi c'è Torrado che inventa direttamente le parole Mormai, bellissimo, mormai, mi piace, mormai Bene, dopo questa digressione enorme, etimologica, non etimologica, comunque nel mondo delle espressioni italiane, stavamo… di che stavamo parlando, ti ricordi? Eravamo arrivati al punto del… Abbiamo detto tutto, nel senso… Del tuo canale Nel senso… Il traduttore, insegnato, poi… poi ho cominciato YouTube e poi abbiamo lanciato i corsi, poi il programma From Zero to Italian che ci ha portato via da YouTube perché in pratica abbiamo avuto migliaia di persone che dovevamo servire con dei programmi che avevano comprato e quindi non c'era più tempo di fare anche YouTube perché YouTube è gratis, in sostanza Quindi lì è stato l'inizio dell'abbandono un po' di YouTube e poi cercando di tornare… perché a me piace fare YouTube, è divertente… e poi con YouTube so che posso aiutare anche al di là degli anglofoni perché noi abbiamo… metà dei nostri contenuti sono in italiano e metà la grammatica è in inglese, quindi c'è un po' più gioco per me, mi diverto di più, però è il tempo che manca E poi recentemente abbiamo lanciato di nuovo un'altra piattaforma, quindi questo è… questo è stato il percorso Certo, certo Quindi tu l'hai fatta molto semplice, però quanti anni ti ci sono voluti per creare questo impero, come mi piace chiamarlo? Sì Mi sembra molto grande, no? È un sacco di corsi, è anche un sacco di dipendenti, almeno ce li avevi Sì sì sì, allora quanto tempo? Non te lo so dire, io non sono bravo con i tempi, le tempistiche A occhio e croce, quindi più o meno, io su per giù direi che il 2016 è quando io mi sono dedicato attivamente a YouTube e quindi poco dopo abbiamo avuto molto interesse, un pubblico che bramava le spiegazioni in inglese perché non le trovava da nessuna parte e quindi da lì è nato poi From Zero to Italian e quindi siamo 2017, tiè più o meno Quindi sì, sei stato molto più rapido di me nel crescere perché anch'io sono più o meno dallo stesso tempo, però io sono la lumaca di questo mondo Tu stai crescendo su YouTube, dai io sono fermo da tre anni che sono fermo su YouTube perché non siamo presenti, stiamo per tornare, l'ho promesso, stiamo per tornare E comunque ci sono tanti commenti come Ronald che dice che il tuo è il primo canale che ha scoperto, anche prima c'erano varie persone che dicevano che hanno iniziato con te, quindi la gente non si è dimenticata, il tuo canale YouTube vuole più contenuti Grazie, stiamo tornando E poi il motivo per il quale ti dicevo prima quel complimento non pagato Che il tuo podcast mi è sempre piaciuto, o il tuo approccio in generale, il tuo approccio Ho sempre pensato, io prendo gli studenti principianti e li preparo in modo che poi possano capire Davide E quindi mi sono sempre sentito complementare un po' quello che fai tu, senza mai dirtelo Però mi sentivo complementare Sì, in un certo senso, in un certo senso sì, avendo io più un pubblico intermedio, avanzato Tu già parla italiano? Certo, certo, anche perché se no questa conversazione non la... non credo la seguirebbero Io non sto guardando i commenti perché preferisco guardare lì così, così guardo la telecamera Però il computer è lì Però io immagino che durante la diretta non ci sono i sottotitoli Quindi però immagino che il tuo pubblico riesca a capire un 50% in media e poi di più, no? Possiamo chiederlo Dai, dai, fai un sondaggio No, mi sa che qui su StreamYard non si possono fare i sondaggi Non so, forse su YouTube si potrebbero fare, però... perché ho visto che adesso YouTube si sta molto... Sì, si è lanciato finalmente Anche a livello di live stream, di dirette, cose così Io sono desidratato in un modo incredibile, scusate ragazzi ma... Sì, tra l'altro sei tornato... ah, magari se vuoi parlare anche del tuo ritorno in Patrica dopo... Dalla tua faccia mi sa che non vuoi Non l'abbiamo già parlato, no? Sì, un po' all'inizio... Ah, della mia avventura sui treni? Vuoi che racconti la mia avventura sui treni italiani? Se vuoi sì, però no, abbiamo già parlato del perché tu sia tornato in Italia dopo l'Australia o no? Sì, perché i confini erano chiusi, per tre anni non potevo uscire All'inizio, sì, sì, però... Ero prigioniero... Ero prigioniero del paradiso Ero prigioniero del paradiso australiano Sì, siamo partiti dalla fine, ok, ok Non potevo uscire Sì, sì E raccontaci dei treni italiani, allora Allora... Questo non è per parlare male della nostra bella Italia Perché Però? Qua c'è un però gigantesco No, c'è un però gigantesco Ma c'è un contro però Perché io sono una persona molto obiettiva E osservo le cose... Sono neutro, sono sempre imparziale Non ho un partito, non ho un lato, sono imparziale Quindi ho avuto un'esperienza che per arrivare a Trieste Torna sempre Trieste, però... La settimana scorsa per arrivare a Trieste Ho impiegato tredici ore in treno E allora il problema Non è stato che ci fossero incendi In pratica mi sono trovato a viaggiare in direzione Trieste Il giorno in cui c'era un enorme incendio Sulla tratta per Trieste Quindi giustamente i treni italiani, tutti Non potevano funzionare in modo... Standard, è normale Quindi io sono... Non mi sono lamentato del fatto che non ci fossero i treni O che il treno fosse cancellato prima uno, poi l'altro, poi l'altro È normale, c'è un incendio Speriamo che non ci siano danni Che non sia troppo grave E quindi il problema non è stato di impiegare tredici ore per arrivare a Trieste Quando in teoria con sei avrei potuto Il problema è il modo in cui veniamo trattati in Italia in generale Quindi ho pagato un servizio, ero su una freccia... un freccia rossa, un treno che costa Il treno si ferma per mezz'ora, non ti dicono niente Quindi tu sei lì fermo e pensi boh che è successo? Niente, nessun annuncio Poi riparte, poi si riferma prima di Bologna, poi si riferma prima di Padova Non ti dicono niente Alla fine siamo arrivati con un'ora e mezzo di ritardo senza sapere perché ci fosse il ritardo E poi alla stazione di Venezia c'era lo schermo con tutti i treni per Trieste Cancellato, cancellato e senza sapere il perché, senza avere un'indicazione Quindi tu immagina una stazione di gente che sperava che ci fosse un treno e poi non c'era E quindi è stato frustrante per la mancanza di comunicazione e anche il fatto che sinceramente c'erano 36 gradi e le stazioni senza aria condizionata E diciamo che secondo me il servizio era la mia lamentela quel giorno, non il fatto che ci fosse il ritardo perché bisogna capire che se c'è un ritardo c'è un motivo Questa è stata la mia esperienza con i treni Però pensi che questa tua, come dire, che l'hai vissuta ma vabbè è oggettivamente un'esperienza non delle migliori, però magari siccome tu hai vissuto in Australia tanti anni l'hai vista ancora come più amplificata negativamente Esatto, allora io l'ho vissuta da australiano dove… in Australia dove tutto funziona quasi perfettamente e quindi noti di più, però io mi metto nei panni del… dei nostri studenti o perlomeno dei miei che sono anglofoni quindi americani, australiani, britannici che hanno magari… sono abituati a magari un servizio con più attenzione e poi arrivano in Italia e hanno lo shock in cui il servizio non sempre è allo stesso livello e quindi io l'ho vissuta un po', sì, così Con gli occhi dei tuoi studenti Con gli occhi dei miei studenti, della frustrazione anche perché il non sapere che cosa sarà della tua vita, sei in un paese straniero, io ero… allora io sono italiano, ero a Venezia, tutti i treni per Trieste venivano cancellati, non sapevo il perché, ho chiamato la mia amica e ho detto Silvia, non posso arrivare, prendo un albergo e torno… arrivo domani, ma perché sono indipendente perché parlo la lingua, quindi posso cavarmela più facilmente, no? Certo E io immagino uno straniero nella stessa situazione non sa cosa sta succedendo Certo E anche le… e anche le informazioni, no? Vai a chiedere e ti aiuto… ti dicono una cosa che poi non è mai vera Ah sì, c'è un treno alle 5.20, al binario 4, vai lì… niente, per un'ora non c'è, non c'è, non c'è, però non c'è, è finto Quindi questa è la frustrazione che credo che lo straniero anglofono potrebbe provare in Italia Poi se… ovviamente non sono gli unici studenti di italiano, per fortuna ci sono molti paesi simili all'Italia, quindi immagino… Certo, 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 dove magari il servizio non è… È simile, sì È simile al nostro, sì, sì No, però, insomma, ci contraddistingue un po' la nostra inefficienza dal punto di vista dei servizi, a volte anche… Volevo chiederti… ah, ecco, sono sparito di nuovo Ogni mezz'ora… Ogni mezz'ora devi toccare la telecamera Allora, vai, eccola, sei tornato E quindi… e tu in Australia come… insomma, immagino che lì il servizio al cliente sia un po' tipo Stati Uniti, Canada, molto… super gentili tutto il tempo? Sì, super gentili, tutto è possibile, ti faccio… ti racconto… ti faccio un esempio Due mesi fa è venuto mio padre a trovarmi in Australia perché avevano aperto i confini anche in entrata e quindi papà è venuto e… e lui ha provato una cosa che per me è normale ma per lui era scioccante, scioccante, era sbalordito, senza parole… Non mi ricordo che cosa, però ho comprato una cosa… mi ricordo cosa… l'ho portata a casa e non era quello che pensavo, non me lo ricordo… al supermercato… il giorno… dopo qualche giorno sono andato al supermercato e ho detto… ho comprato questo, non lo voglio, lo tieni, senza scontrino, senza niente… ok, grazie, fatto, risolto… invece in Italia fare un reso a un negozio è sempre difficile, o non te lo permettono, oppure ti rompono le scatole, oppure ti danno il bonus, ti danno il credito, ma riavere i soldi quasi non esiste. Mentre in Australia… Cioè nel senso io… io poi non lo faccio mai, quindi… Perché penso che alla fine la maggior parte delle persone… almeno io non lo faccio… Però in teoria con lo scontrino… non dici che… vabbè, dovrei essere io a dirtelo che ne ho visto in Italia… Io non avevo neanche lo scontrino… Sì, 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 no vabbè, quello non penso succederebbe da noi… Io non avevo neanche lo scontrino, no, no, no… E rimanendo un po' su questo argomento, volevo chiederti magari come… come… Vivendo fuori dall'Italia, qual era la tua visione dell'Italia, come dire… com'è l'Italia vista da fuori? E poi magari anche tornando, quali sono state le tue impressioni? Innanzitutto sono scomodissimo perché sono… sto seduto su una sedia che non è adatta, quindi sono maldissima… Devi fare una pausa… Sono a pezzi, mi fa male tutto… Allora… Nelle note delle dirette su Podcast Italiano si soffre, è un esercizio fisico… Ma che sia di ai scusa per… non sei più sulla valigia, mi hai detto che eri su una valigia… No, no, sono seduto su… in teoria una sedia da ufficio, ma di quelle super economiche, che è micro. Io non so perché i miei abbiano comprato una sedia micro, ma è piccola, piccola, piccola… E poi anche la scrivania… non è una scrivania… non entro, cioè non entro sotto, hai visto? Devi mettere le gambe… Scomodissimo! Quindi tu da un'ora e venti più o meno stai soffrendo, stai dissimulando la sofferenza. No Davide, io sono due settimane che soffro perché sto lavorando da qui. Quindi sono due settimane che soffro con questo mal di schiena. Comunque, come vedo l'Italia? La vedo… io penso come… come gli italiani. Forse la vedo un po' meglio perché da italiano in Italia avete molto più contatto con i problemi. Avete molto… avete più quotidianità con le cose che non funzionano, eccetera. Io da fuori so che non funzionano, ma non le vivo, quindi io credo che forse la mia opinione è leggermente più positiva degli italiani. E quindi io vedo l'Italia con… il paese forse con il maggior potenziale al mondo per essere un paese che vive di turismo onesto, con prezzi giusti, con servizi funzionanti. potrebbe veramente vivere di rendita… l'Italia potrebbe essere un paese dove i cittadini non pagano le tasse per quanto… per quanto patrimonio abbiamo. Noi potremmo veramente… noi siamo un museo, l'Italia… la frontiera dell'Italia entri al museo. Eppure le cose non… non vengono fatte con… col metodo che secondo me porterebbe risultati che potrebbe… ma non parlo a livello economico, ovviamente anche, ma proprio a livello di valorizzazione di quello che abbiamo. Ti faccio un esempio banale. Io nel mio paese abbiamo tre castelli medievali di varie epoche… beh no, abbiamo due castelli e un borgo medievale. E c'è un… il castello particolare che mi viene in mente è un castello bellissimo perché si trova nell'acqua, tipo la torre di Belen di Lisbona, nell'acqua. Ed è… ed è uno spettacolo, ma ovviamente cade a pezzi, ma in un modo incredibile, ma non per… la mia lamentela non è perché cada a pezzi, ma questo castello si trova in una spiaggia… una zona militare, quindi non c'è molta gente, per arrivare è molto scomodo, e non c'è niente. Quindi la spiaggia è bellissima perché l'acqua è pulita, è spettacolare, è un sogno di zona. E purtroppo ovviamente non ci sono neanche i servizi. E quindi in questa zona, non voglio essere troppo specifico, però la gente va e passa la giornata intera vicino a questo castello in spiaggia e deve usare il bagno che non c'è. E quindi ci sono i bagni che non sono bagni. La cosa triste è che dietro questo castello ci sono rovine di ville romane. Se io non erro c'è la villa di Cicerone, se non erro, che è sommersa e sono ruderi di ville romane che potrebbero essere museo e la gente ci va al bagno. Perché non c'è neanche un recinto. E niente, fa niente. E questa è la cosa triste. Io vedo molto potenziale nell'Italia che potrebbe veramente essere il leader del turismo nel mondo. E purtroppo la gente sta… sempre di più preferisce andare in Francia, in Spagna. L'altro giorno leggevo, non so se era una bugia perché l'ho letto sul sito della Emirates, però che Dubai è la città più visitata al mondo. Perché forse perché l'aeroporto è centrale, no? Però… cioè l'Italia deve essere il paese più visitato al mondo, Roma dovrebbe essere la città più visitata al mondo. E invece no. Perché non abbiamo i servizi. Non abbiamo il servizio, l'esperienza giusta. Ciaro. E vivere in Australia ti ha, come dire, ha acuito questa consapevolezza? Oppure, cioè nel senso, è cambiato un po' la tua visione dell'Italia vivendo lì? Oppure, come dire, è sempre stata più o meno la stessa? È detto che è diventata un po' più positiva, forse. Ti ho detto, io sono imparziale e vedo le cose così come sono. Non ho un'opinione, presa su niente. Credo che forse vivere in Australia, un paese che non ha granché a livello… in termini storici, perché quello che ha… anche l'Australia non lo valorizza, e parlo di cose indigene di migliaia di anni fa, però vedo che, pur non avendo molto, l'Australia ha servizi efficienti, che funzionano. E quindi la persona che va in un posto qualunque, dove c'è una cosa, una cosa qualunque, ha un'esperienza positiva. Le strade sono pulite, trova la fontana per bere ogni dieci metri, trova i bagni pubblici puliti con la carta igienica. Quindi l'esperienza è più gradevole, secondo me, però poi magari non c'è la parte storica che invece noi abbiamo in Italia. Certo, certo. Quello è un po' il discorso che facciamo sempre, no? Abbiamo… chi non ha niente lo sa valorizzare tipicamente. Sì. Poi ci siamo noi che abbiamo un sacco di roba ed è tutto un po' sì, perché… È tutto la villa romana su cui la gente fa i bisogni sommersa nell'acqua. E… cosa volevo chiederti… Ma c'è qualche domanda di studenti? C'è, secondo me, qualche domanda, la stiamo un po'… questo è tipico anche delle mie dirette, ignorare la chat perché poi… Io non lo sto guardando. Ok. Carina chiede, per esempio, secondo me questi problemi non sono così esclusivi dell'Italia. Il commento è di dieci minuti fa, quindi non so se stavamo già parlando dei problemi con i treni forse, stavamo parlando dieci minuti fa. Ah sì, i treni. I treni, sì. Sì. Vabbè, non sono esclusivi dell'Italia, però… No, 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 no. Però è vero che il servizio è un po' la cosa anche carente, cioè… come si viene trattati. In quell'esperienza bastava perché, come ho detto, è un incendio, quindi non c'è un altro modo che disdire i treni, non possiamo far passare il treno se c'è un incendio. Avrebbero potuto fare semplicemente annunci chiari e informazioni chiare anche dicendo non sappiamo cosa sta succedendo, organizzatevi in modo indipendente, allora uno lo sa. Quello era il problema quel giorno. Comunque poi io ti ho detto, io non… non vivendo i problemi della vita quotidiana in Italia, che invece chi vive in Italia prova tutti i giorni, credo di avere una visione più ottimista, ottimistica dell'Italia rispetto all'italiano medio che tende a lamentarsi in generale, quando invece ci sono tantissime cose belle. Ci sono tantissime cose fantastiche, esperienze… anche esperienze umane. Ti ho detto siamo appena tornati da tre giorni a Napoli. Abbiamo avuto sì il negativo, quindi hai visto lo sporco, hai visto le persone che ti fermano in strada, ci hanno fregato in un paio di occasioni col conto, però esperienze umane che sinceramente mi mancavano. Le interazioni con gli sconosciuti dove nel giro di dieci minuti ti vuoi bene. È una cosa nostra… non è nostra italiana, però mi manca perché non la vivo tutti i giorni. È bellissima quella, quella cosa. Però l'Australia mi dà l'idea di un paese molto solare… Alla mano, sì. Molto alla mano. Comunque mi dici che non c'è quel tipo di interazione che magari hai, diciamo soprattutto nel centro-sud secondo me, no? Che appunto diventi amico in dieci minuti… non la vedevi in Australia? Sì e no, nel senso che sì la vedi perché la gente è molto molto alla mano, sono tutti molto simpatici, aperti, però c'è anche un po'… c'è ancora quell'impronta anglosassone, che quindi sono educati e aperti, però comunque molto riservati e indipendenti. E quindi l'interazione è molto bella, però poi magari finisce lì. Mentre io… ti faccio l'esempio, ero a un ristorante l'ultimo giorno, le ragazze erano già andate via, ero da solo a Napoli, sono andato al ristorante, c'era un tavolo fratello di… c'è un fratello di una sorella milanesi con un amico, non… mi ha guardato, gli ho detto che cos'era quel piatto, gliel'ho consigliato e poi sai ci siamo scambiati qualche parola così… poi io ho finito, mi stavo alzando, li ho salutati perché si fa così… ma ti vuoi sedere qui? Ok, mi sono seduta e abbiamo continuato la serata… e adesso siamo amici, siamo in contatto, capito? Sì. Ed è bellissimo, è bellissimo, mi piace questa cosa. Comunque non è… non è impossibile in altri… in Australia, l'ho vissuta anche in Australia, però in Italia è una cosa più comune, secondo me in Italia come in altri paesi latini, sicuramente. Certo, certo. Però in Australia non è così comune, in questo senso. Sì, sì, sì. Diciamo che secondo me chi emigra… ci sono entrambi i lati, no? Il lato del… ah, qua funziona tutto meglio perché poi tipicamente vai in un paese che ha cose che il tuo non ha, specie a livello lavorativo, quella tipicamente è la ragione primaria per cui le persone se ne vanno. e poi però c'è spesso anche l'altro lato di… ah, mi manca il cibo, mi manca… non lo so, beh, la famiglia ovviamente, ma quello è banale, mi manca… mi mancano queste cose che hai detto tu, quindi… tu, insomma, che percentuale avevi delle due cose, insomma? del… ah, qua mi piace perché… non so, questo funziona meglio, il servizio è… Allora, ti ho detto io sono uno che si adatta e mi integro. Quindi io in Australia sono australiano e in Italia sono italiano. però io sono anche… la cosa che io ho trovato in Australia che mi mancava in Italia quando vivevo qui è che io sono abbastanza svizzero, sono proprio preciso, sono organizzato, puntuale, per… tutto molto… non so come… molto organizzato, sono molto preciso, rispetto l'ambiente, ci tengo a rispettare gli altri, lo spazio degli altri, le opinioni degli altri… ho queste qualità che ho redditato dai genitori, ovviamente. Però in Italia mi scontravo spesso con la gente che butta la sigaretta, la gente che lascia la birra, che lascia la lattina lì in terra… mi scontravo con… con cose che erano diverse dalla mia persona. La puntualità, cioè l'assenza di puntualità anche… L'assenza di puntualità… ma non solo l'assenza di puntualità, quella per me ci sta anche, ma di nuovo è… fammelo sapere che sei in ritardo, io sono apposta, tu mi chiami, sono in ritardo, io… medito, faccio una passeggiata. Certo. E quindi quando io sono arrivato in Australia, le cose che… io non sono andato per lavoro, quindi le cose che ho apprezzato erano le cose che per me erano importanti, quindi rispettare la natura, non inquinare, non buttare le cose in terra, raccogliere… se… se io… quando io sono in spiaggia, io vedo plastica… la raccolgo e la metto nella spazzatura. Perché questa è una cosa che io ho sempre fatto, quindi andando in Australia ho visto che è una cosa che tutti fanno. E quindi mi sono… mi sono sentito molto molto bene. Certo. Il paradiso almeno per chi viene a determinate cose. Il paradiso… se… se io e te avessimo un'opinione divergente discuteremmo in un modo molto acceso, con il tono di voce che sale sempre di più così, no? E… tu immagina opinioni importanti, tipo… vabbè, non faccio cose, però uno di qua, uno di qua, no? E… Politica. Politica. Ci sono le lezioni, quindi questo scenario in molte famiglie e gruppi di amici ci sarà davvero. Esatto. E io invece… io ho un approccio molto vivi e lasciavivere. Quindi ho un modo di confrontarmi con gli altri, anche se abbiamo opinioni divergenti, in un modo molto rispettoso, non aggressivo. E… e quindi, di nuovo, questa è una cosa che ho trovato più affine a me, stando in Australia, rispetto… in Italia, dove siamo più aggressivi nel nostro modo di difendere le opinioni. E… tutta una serie di cose. Mi sono trovato più… più a casa. Però, se tu mi chiedi la percentuale, la percentuale è andata diminuendo molto. Quando io sono arrivato in Queensland… Venuta nostalgia. Esatto. Quando io sono arrivato in Queensland, che io amo il caldo e il mare, cento per cento, perfetto, il paradiso. Poi piano piano ti accorgi… è un po' noioso, non c'è cultura, il cibo fa un po' schifo… E quindi piano piano scendi scendi e quindi io prima della pandemia penso fosse un ottanta per cento. Sono soddisfatto, mi mancano alcune cose, però quelle che ho sono belle e non le trovo facilmente in altri posti. Quindi resto qui. E poi con… con i due anni e mezzo… due anni che hanno chiuso i confini non potevamo viaggiare. Io amo viaggiare. Non solo in Italia. A me piace andare in giro per il mondo. E quindi essere prigionieri, fra virgolette, non solo dell'Australia ma dello stato in cui io vivevo perché abbiamo chiuso i confini negli… fra gli stati. Quindi non potevamo neanche andare in un altro stato. E a quel punto la mia percentuale è sempre cambiata. Quindi 70 per cento lo amo, 30 per cento voglio andare via, 60 per cento lo amo, 40 per cento voglio andare via. E adesso che hanno aperto i confini sono andato via. Se non ci fosse stata questa situazione saresti rimasto magari? Cioè il fatto di essere stato rinchiuso nei confini australiani magari ti ha fatto venire voglia di non ripetere l'esperienza se dovesse ricapitare? Sì. Sì. Bene. Cioè nel senso… è così, è così. È così. Vediamo se c'era qualche altra domanda, qualche altro commento. A proposito potete… se avete domande per mano scrivete o per entrambi scrivete adesso. Però magari torniamo un po' indietro. Magari… ma stiamo parlando troppo velocemente? Beh, prima quando abbiamo fatto il sondaggio vedevo cifre, vedevo numeri alti. Cento per cento, novantotto, ottanta, cento, novantanove, cinque di Murilo. Fantastico. Continua a ascoltare, ce la farai. Bravo, sì. Oppure se ti serve vai a sentire i video di mano in inglese. Se sei anglofono. Se sei anglofono, però forse non lo sei. Novantacinque, novantacinque, ottanta, novantanove, virgola nove. Quindi… Cavolo! Credo ci stiano capendo. E le persone che non ci capiscono forse non hanno capito nemmeno la domanda. Quando ho chiesto, quando ho capito. Quindi non possono rispondere. Non so. Sì, sì. E… ti chiedevano quante lingue parli il classico? Vabbè, l'hai detto, mi sa, no? Portoghese, spagnolo, giapponese, inglese… Allora, aspetta, no. Lingue che parlo, che posso comunicare tutto e bene. Italiano, inglese, spagnolo e portoghese. Lingue che so e quindi potrei volendo, francese, ma non ho la fluidità di parlarlo in maniera spedita, non sono bravissimo, non lo parlo mai. E il giapponese è la mia mania. Quindi come molti studenti… come molti di voi l'italiano è la vostra mania. Per me è il giapponese. È quella lingua che io prima di morire devo sapere parlare giapponese. È a questo livello. Quindi… però non lo so. Io credo e forse anche il pubblico che sta guardando questo video può avere la stessa esperienza. Il momento in cui sai più lingue, come anche te Davide, il momento in cui sai più lingue, hai un cervello linguisticamente più flessibile. E una cosa che io ho imparato grazie alle lingue è leggere il contesto. Che da principiante della prima lingua non hai questa qualità di saper leggere il contesto e quindi prevedere che cosa stanno dicendo, anche se non lo capisci. Il contesto è tutto. E io ho questo… questa fortuna che io ho in Giappone riesco praticamente a interagire completamente senza sapere il giapponese perché conosco le parole chiave, conosco la struttura della grammatica e quindi riesco a identificare le due parole che mi serve per capire e poi per il resto uso il contesto e quindi spesso capisco solo che non so rispondere. E quindi rispondo in inglese. Ma questo è in situazioni tipo al ristorante oppure… Sì, sì. Sì, no, no, non discorsi filosofici, no, no, non discorsi filosofici, no. Una conversazione come questa tu saresti in grado di… No, in giapponese no. Ah, ok. No, no, capirei 5-10% forse. Come Murillo o come si chiama. Sì, sì. Sì, sì. Beh… Guarda… Guarda, io guardo… Adesso non mi ricordo il nome del canale, ce ne sono un paio. Io guardo un paio di canali giapponesi dove fanno video come questi. Quindi sono due giapponesi che parlano e… e siccome il contesto è più limitato, perché il titolo è specifico, quindi… che ne so. Vabbè, com'è la vita in Messico? Quindi sono due giapponesi e so che parlano della vita in Messico, quindi un po' di vocabolario lo conosco. Alcune cose le capisco perché sono in spagnolo o in inglese… e per il resto uso il contesto. Quindi in quel caso capisco di più se c'è un argomento specifico. Ecco, questa qui di oggi abbiamo parlato di 420 cose, quindi… Sì, certo. Queste sono le mie dirette. Questa è difficile. Non hanno argomento. Non possono… come dire… devono aspettarsi qualsiasi cosa. Non… non diamo punti di riferimento. Ma tu metti sottotitoli o no? Ai miei video, dici? Eh, eh. A questi… anche le dirette? A queste dirette no, a queste dirette no. No, troppo lunga. Sarebbe uno sbattimento allucinante, per usare una parola… Sbattimento? Sarebbe… sì, uno sbattimento. Sarebbe troppo difficile, troppo complicato. Sì. Però… non lo so, penso che sia un modo anche di mettersi alla prova. Perché i sottotitoli sono anche un po' una zona di comfort. Quindi… se sai che ce li hai… Esatto, sì. Sai che capirai quasi tutto. Mentre se non ce li hai, devi capire da solo. Devi capire. Devi capire. Esatto. E se non capisci, puoi fare il replay. Esatto. Tornare indietro di cinque secondi… Sì, tornare indietro. O magari potete risentire questa diretta, voi che la state seguendo in diretta, potete vedere la registrazione. E secondo me è molto utile anche quello, risentire qualcosa che hai già sentito. Beh sì. 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 Grazie intanto per i complimenti a Sam, che ci finisce leggende. Credo che non sia il termine giusto, però… No, Manu… Grazie. Manu è una leggenda. Ma smettila, manca Davide. E anche tutti gli altri commenti che ci hanno… commenti molto carini che ci avete lasciato prima. Grazie. Che in maniera molto scortese non ho… ho ignorato, ma perché ero preso dalla conversazione. Allora, fare… fare una diretta, per chi non lo sapesse, è… è complicato. L'attenzione di Davide deve essere su 36 cose, la tecnologia, la telecamera, i commenti, quello che dice Manu, quello che vuole dire lui, la telecamera che si spegne… Sì, esatto, esatto. Anzi, mi hai ricordato che… no, sta cosa la devo risolvere perché davvero… Ma scusa… Ogni mezz'ora si spegne se non tocco niente. Non ho trovato… Che videocamera hai? Ho una Canon. Ok. Una Canon. Però… vabbè, ok, non è interessante per il pubblico questi dettagli tecnici, però sì. Non è… Io sono passato a Sony. Sì? Sì. Sono un po'… sono più… per fotografi professionisti forse Canon è sempre il meglio. Però per videografia… hanno più tecnologia. Riescono a mettere più tecnologia dentro la macchinetta e quindi… io non ho il problema che hai tu. Sì, ma magari è risolvibile, diciamo che… Speriamo, sì. Nel senso, mi ero informato tipo mesi fa, mi sembrava irrisolvibile e ho lasciato perdere. Però magari è quelle cose che se in realtà vai a cercare un po' meglio poi trovi una soluzione. Certo. Però sì, non è molto professionale questa cosa che… Ma no… C'è stato un periodo di mesi con l'altro progetto Liga Romanica in cui facciamo dirette ogni settimana e ogni settimana avevo questo problema. E poi non lo risolvevo, mi dimenticavo. Senti, io so che questa è un'intervista a me, però io volevo proprio chiederti, invece di Liga Romanica… Sì. Dimmi. Che cosa? Vabbè, adesso siamo un po' in pausa, tra l'altro vedevo prima che c'era Valentin che è un grande fan di Liga Romanica, quindi un saluto… Quando lui prima ha scritto un classico si riferiva proprio al fatto che la mia fotocamera si spegne ogni tanto, perché mi succedeva ogni mezz'ora su Liga Romanica ed era diventato un meme, no? Io che sparivo. No, per me è un progetto simpaticissimo e divertentissimo quello che fate. Sì, per chi non sapesse, è quest'altro progetto che abbiamo iniziato lo scorso dicembre con Elena di Canale Linguriosa, Leo di Portuguese with Leo e Elisa di French Mornings with Elisa, che quindi hanno tutti i canali tipo i nostri, anche se in realtà Elena ha un canale più di linguistica, quindi è meno insegnamento, adesso all'inizio era più insegnamento. E niente, quindi un po' come te a me piacciono le lingue in generale, facendo questo progetto io personalmente… non morire intanto, la sedia è piuttosto scomoda. Non… come dire, facendo… avendo questo progetto sono un po' limitato a fare le cose… vabbè, parlare italiano è vero che anche lì parlavo solo italiano. Fatti, sì. Magari spiego un po' il concetto per chi non sa niente, perché magari non tutti sanno. È un canale… Valentin, metti il link se ci sei, perché Valentin era moderatore su Liga Romanica, quindi diventi mio moderatore, Valentin. No, è comunque un progetto in cui praticamente facciamo dirette in quattro lingue, italiano, spagnolo, portoghese, francese. E adesso siamo un po' in pausa, però… questa era l'idea. Insomma, a entrambi piacciono molto le lingue e quindi piace parlare di lingue, paragonare lingue e quindi quello era un po' il motivo per cui abbiamo iniziato questa cosa. È iniziato un po' per caso in realtà, nel senso abbiamo iniziato in realtà a parlarci più per scambiarci consigli su YouTube, su questo lavoro strano. E poi però ci siamo resi conto che parlavamo tutti i lingue e romanze, quindi… non so se tu conosci Ecolinguist, Ecolinguist. Sì, 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 sì. È un po' ispirato, anche se è diverso il concetto. A me piace più il vostro. Sì? Sì. Perché? Oddio, non mi fa… è la seconda volta che mi mettete in posizioni… perché non ti piaceva Trieste? Allora, ti ho detto che sono diplomatico. Ok, vabbè, non parlare male di Norbert se non… No, 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 assolutamente non parlo male. Un saluto a Norbert che non parla l'italiano, quindi… No, per me… io non sono molto attratto alle cose che io identifico come gimmick. E secondo me Liga Romanica non è un gimmick. Ok. Personalmente mi sento più connesso a un progetto come il vostro perché non è… non è fatto in un certo modo. E' fatto più proprio con l'interesse che tutti voi veramente avete e… non lo so, non so spiegare la differenza, però io percepisco una differenza. Ed è per questo che, di nuovo, quando prima ti ho detto che mi è sempre piaciuto il tuo progetto, il tuo podcast, è il modo. Perché ne esistono tremila altri di podcast in italiano, però sai, uno si sente più affine con la modalità di… che usa una persona rispetto a un'altra. Quindi non è per parlare male degli altri, è più una… uno stile che sento più… Certo, certo, certo. Meno aggressivo, che non è la parola giusta. Ok. Non so se capisco cosa intendi, però mi accetto al complimento. Ok. Cosa voglio dire? Sì, è un po' diverso comunque, forse per il fatto che alla fine siamo… abbiamo conversazioni vere, mentre quello che fa Norbert è più un modo di… è più un gioco. Esatto. È divertente, a me piace molto, però è più un gioco. Vediamo quanto riusciamo a capirci. Nel nostro caso sappiamo già che ci capiamo in linea di massima, ci capiamo tutti abbastanza bene e quindi diventa più una conversazione, quindi è un po' diverso. E niente. Non so se ho soddisfatto la tua curiosità. Ma io sapevo già tutto, nel senso… Infatti perché in realtà sì, ci siamo già parlati. No, ma la mia domanda era più… no, non so, come va il progetto? Quindi siete in pausa. Ah, ok, come va? Sì, no, adesso siamo in pausa, siamo in pausa un po' perché eravamo tutti super incasinati di cose da fare. Fare una diretta settimana è tanto. Infatti ho fatto ogni due settimane dopo, no? Abbiamo iniziato con una volta a settimana, poi è diventato una volta ogni due. È pesante. Però era arrivato a un punto in cui non riuscivamo molto a prepararci e quindi erano un po' improvvisate e non è molto bello quando hai un po' l'acqua alla gola. Devo fare questa diretta, non ho niente di preparato, non ho nemmeno l'ospite contattato e quindi era diventato un po' complicato per quello, però è stato molto bello vedere comunque così tanto entusiasmo, nel senso forse non abbiamo raggiunto numeri enormi, però è vero che non è neanche troppo… cioè è un progetto abbastanza giovane. Sì, sì. Però il fatto che si sia creata questa community, diciamo comunità… Meglio, sì. Ok, io non so se… Che è successo? Siamo spariti? No, tu solo hai risposto. Io non so se ero sparito anch'io, però stavo… Ho visto un caricamento sui nostri video per due secondi. Ero già pronto a fare il tuo ruolo, a prendere il tuo ruolo. A prendere le retini della cosa. E quindi che stavo dicendo, non mi ricordo. Vabbè, che non avete raggiunto grandi numeri, ma avete raggiunto buoni numeri. No, però dicevo che il fatto di aver costruito una comunità di persone così entusiasta, abbiamo il canale, il server Discord, con un sacco di gente che parla… Io sono troppo vecchio, sono troppo vecchio per Discord. No, ma tu sei super nerdi queste cose, quindi… Sì, ma Discord è già troppo. Come io ho ignorato Snapchat, ho ignorato TikTok, troppo vecchio per queste cose. Non mi prendono più, però capisco l'utilità di Discord. La apprezzo, è che non ci perdo tempo. Sì, sì, sì. No, anch'io sono un po' boomer da questo punto di vista perché non lo uso molto. E infatti ogni volta… Cioè, abbiamo creato questa cosa non essendo esperti di Discord, quindi non sappiamo niente. però è molto bello, no, è una cosa che interessa comunque. C'è una richiesta di… Come dire, c'è un pubblico di persone appassionate di lingue che è disposto a guardarsi dirette in quattro lingue. Allo stesso tempo forse non è un pubblico così grande. E poi la cosa che differenzia un progetto da quello, come un progetto come i nostri, è che quello è, alla fine, intrattenimento. o edutainment, diciamo così. Perché c'è comunque una componente di dire cose interessanti, fatti interessanti sulle lingue, no? Paragonare lingue. Però è vero che… Però non stai realmente insegnando una lingua. No, no, no. Anche se Valentin non sapeva l'italiano e vedo che segue questa diretta, quindi io credo che un po' abbia iniziato a capirlo. A capirlo, sì. Però è vero che per me è un argomento interessantissimo, è per questo che mi piace il progetto. Però in effetti capisco che è molto di nicchia, perché richiede… È un po' di nicchia. Richiede una persona che capisca almeno due delle quattro lingue, almeno tre. Anche io penso due lingue. La nostra idea all'inizio era… Wow, abbiamo tutti più di centomila follower. Ah, tu ti aspettavi quattrocentomila iscritti, quindi. Un po' naive forse, ripensando. Sì, 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 è vero. Però… Vabbè, magari non tutti. Però pensavamo di… Con la nostra potenza di fuoco… Il vostro clout. Come si dice clout? Il nostro cosa? Clout. Cloud? Nuvola? Clout. Clout. Cosa vuol dire? Eh, cercalo, non lo so in italiano. Ma è inglese o tedesco? È inglese, è inglese. Non conosco la… Ah, influenza. Sì, però… Non conoscevo la parola. Però è diverso. È… Peso, prestigio, diciamo. È il peso, prestigio di una celebrity, diciamo, di una persona famosa, sì. Sì. Pensavamo di raggiungere più persone, quello sì. Però effettivamente, ripensandoci, non è così facile capire quattro lingue. Ed è per questo, di nuovo, che invece canali simili che prendono più l'approccio di gimmick, come… quindi di gioco, è più entertainment, è intrattenimento. È molto più puntato sul… che ne so. Parlo italiano a un tedesco. Mi capisce? È più un gioco. Quindi anche se io non so il tedesco, anche se io non so l'italiano, lo guardo e è più ammazzatempo. Mentre i vostri video erano interessanti. Cioè, anche… era interessante seguire la dinamica di quattro persone con lingue diverse che si capisca. È bello. Però richiede… richiede un pubblico un po' più preparato, forse. È una barriera all'ingresso, diciamo, il fatto di sapere almeno due lingue. Sì. E quindi sì. Ma senti, invece, volendo approfittare di questa piattaforma che stiamo comunicando con i tuoi studenti, i tuoi iscritti. Invece, che cosa… e parlo con chi sta guardando questo video, magari lo possono commentare. Che cosa potremmo fare? La metto lì. Io e Davide per aiutarvi con l'italiano con qualcosa che non esiste. Perché una mia prerogativa in tutto quello che faccio nella mia azienda è di non faccio quello che già esiste. Se già un'altra persona lo fa, non lo faccio anch'io. Faccio una cosa diversa. Perché come studente a me piace avere diversi input. E quindi io cerco di produrre cose che non esistono. Quindi io mi chiedo. Voi che seguite Davide e magari alcuni, anche i Termidisi, quando pubblicava. Torniamo. Anche adesso comunque, hai tanti fan nel pubblico. Sì. Però in che modo… che cosa vi manca? Cioè, capito? Ora ho curiosità di che cosa vi manca, che cosa non esiste che invece vi risolverebbe la vita con l'italiano. Che domanda. Ti piacciono le vostre idee? Ti è piaciuta la mia domanda? Mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto. Molto anche… dimostra la tua esperienza a livello di marketing e di… no, non di marketing. Sì, di… ma… Tu sei un imprenditore. Io sono imprenditore, ma io… io sono interessato al successo degli studenti, non all'imprenditorialità. o imprenditorialità. Però quella è la prima regola dell'imprenditorialità, no, capire i problemi e risolverli. Mi piacerebbe sapere che cosa manca per gli studenti di italiano, così lo possiamo creare. È vero, è vero, perché c'è… c'è tanto. C'è tanto, ma è molto anche tanto dello stesso, secondo me. È vero, è vero. Fateci sapere anche idee di… noi avevamo anche voglia di fare qualche video insieme, visto che adesso sei tornato… Yes. …in patria. Sì. E quindi magari se avete qualche idea di cose che potremmo fare insieme, oltre a questa diretta. Questa diretta era un po' per conoscerci, come ti dicevo, ma a me piace conoscere le persone nelle dirette, no? Alla fine penso a tutte le persone che conosco in questo mondo linguistico, le ho quasi tutte conosciute invitandole al mio canale. Bello, sì. Obbligandole a parlare italiano per due ore. E perché non tutte sono italiane, intendo, e quindi a volte… Ah, ok, infatti, parlare italiano? Che problema c'è a parlare italiano? No, no, è perché ho avuto anche tanti… cioè, almeno un terzo degli ospiti direi che sono stati stranieri, quindi… Ok, ok. Quindi sì. Però sì, quindi se io e Davide ci incontrassimo da qualche parte, Firenze, quello… non lo so, cosa volete vedere? Davide e Manu vanno in… e… finite il titolo. Una serie comica, no? Esatto. Davide e Manu entrano in un ristorante. È successo questo. Oppure Davide e Manu viaggiano in treno per l'Italia e succede questo. Allora, oh my. Posso fare una proposta? La faccio in diretta? Vai, proponi. Ok. Allora, io seguo molte cose nipponiche, cose per il Giappone e seguo sia giapponesi che stranieri che vivono in Giappone e fanno video sul Giappone. E c'è questo… uno che è molto famoso che è Abroad in Japan, che è un ragazzo inglese e lui ha il suo canale Abroad in Japan e poi ha un podcast con altri anglofoni che vivono in Giappone che si chiama Tastetrash, che è un podcast dove parlano di tutto. Hanno vari… vari canali, hanno creato un network. Ma una cosa che fa molto carina, lui con un altro youtuber… oddio, come si dice… gallese? Del Galles? Sì, gallese. Non mi veniva in mente Welsh. Come si dice in italiano? Welsh, gallese. Loro una volta al mese fanno un weekend da qualche parte in Giappone e tutti e due producono un vlog della loro esperienza in quel posto del Giappone. Ti va di farlo? Perché no? Cioè, quindi Davide e Manu vanno a Venezia e facciamo due giorni di qualcosa di strano a Venezia, di qualcosa che è interessante perché è un video divertente, è un po' intrattenimento, no? Però è intrattenimento… Dovremmo però farlo tipo in due parti, no? Perché sennò… uno qua, uno all'asi. Perché no? È intrattenimento per studenti di italiano perché se io fossi studente di italiano, io so che posso imparare la grammatica con Italy Made Easy fino a un punto se sono anglofono e l'italiano è la prima lingua, ok, Italy Made Easy mi risolve. Poi posso, che ne so, imparare delle sfumature spiegate già in italiano perché ho raggiunto un livello buono con Lucrezia. Poi posso ascoltare il podcast… video podcast di Davide perché mi piace il modo in cui parla e mi aiuta. E forse manca l'intrattenimento fatto per studenti di italiano, quindi no… perché ovviamente esistono molti canali italiani per italiani, ma sono difficili, sono difficili da seguire. Io e te insieme avremmo l'accortezza di fare un video per studenti di italiano, quindi facendo attenzione di evidenziare le cose particolari della lingua, le espressioni che usiamo, quindi sarebbe un video linguisticamente intrattenimento. Sì, sarebbe… secondo me sarebbe interessante. La cosa che ho notato è che i vlog, nel mio caso… perché serve un po' tipo un vlog, non funzionano molto, ma confrontandomi con altre persone è un po' così per tutti, almeno nel nostro settore. Il vlog ha un grande svantaggio, oltre a quello che non funzionano facilmente. Richiedono molto più post-produzione, molto più editing, montaggio, devi creare una storia… di solito i nostri video sono… Il mio caso è più facile, trovo che sia più facile per me editare i vlog che i video normali. Ah! Sì, però perché io nei video normali metto un sacco di… Papere? Papere? Ah, è un riferimento a… No, a cosa? Perché in video avevo le papere, no? Ah, ok, no, 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 no. Parlavo alle papere. No, ci metto molto… insomma, sono molto elaborati e quindi il vlog è quasi più facile, perché non metto troppo iscritte, insomma. Comunque, anche il pubblico ha recepito positivamente la tua idea, sembra. Ok, Sam, Victor, allora facciamo… Davide e Manu in giro per l'Italia. Proviamo. Davide e Manu in giro per l'Italia. Siccome poi, visto che sei anche tornato e magari ti manca un po' girare l'Italia… Tantissimo! Allora io sono… io sono arrivato tre settimane fa, sette giorni sono stato fermo nel paese con la famiglia. Dopo una settimana ho avuto l'esperienza del treno per Trieste, sono andato a un matrimonio dove ho fatto il testimone. Ho fatto tre giorni vicino a Trieste, poi da lì ho preso l'aereo, sono andato a Napoli. Ho fatto tre giorni con il team di Italy Made Easy a Napoli e Ischia. Sono tornato e fra poco vado in Sicilia. Dalla Sicilia poi andrò, diciamo, a Padova, più o meno. E poi tornerò qui e poi dopo un po' vado… beh, esco dall'Italia e vado un attimo in Messico. Uno sbandamento temporaneo. Però poi torno. Però poi torno, sì sì sì. Bello, bello. Quindi, vabbè, hai già tanti viaggi in programma. Hai fame di viaggi in Italia, insomma. Ho fame di viaggi e ho fame di viaggi in Italia, sicuramente. Oppure uno dei due fa la trasferta prima parte del video… Approfondimento in che senso, tipo linguistico? Tipo un commento, un commento su quello che è successo, forse. Faccio sapere cosa intendi. Comunque, se state vedendo la registrazione della diretta, lasciate un commento, così lo leggiamo poi. Se siete arrivati a due ore e zero due… A due ore e zero due… Vi fa onore, non credo molti. Lo faranno… Magari qualcuno, sì. Quindi… Andate a New York, dice D'Anecchio. Non lo dico per un motivo specifico. Ma… Beh, sì, non deve neanche per forza essere in Italia. Però ecco, magari l'Italia interessa più… Certo. …al nostro pubblico, ai nostri pubblici. Però, sinceramente, se io seguissi due insegnanti di portoghese e insieme mi fanno un vlog dove vanno a Parigi e parlano comunque portoghese, per me va bene lo stesso. È comunque interessante, è comunque in portoghese e sono comunque i miei due insegnanti. Quindi possiamo anche andare a New York, se volete. Non so se hai… Vabbè, tu hai detto che non guardi molto contenuti… No. No, non guardo niente. Io non guardo… Ho iniziato… Ho fatto qualche video tipo vado in Spagna, vado a Madrid e parlo in italiano, vado in Portogallo e parlo in italiano, ai portoghesi, per vedere quanto capiscono. Sempre un po' un esperimento di comprensione e… Sì. …son divertenti quei video. Non so se tu hai mai fatto interviste di strada… Io ho un problema grandissimo, Davide, e pubblico. Odi la gente. No. Amo la gente, ma sono timidissimo. Nessuno ci crede. Io sono… Sono… Come dice? Introver… Introvertito. Introvertito. Ah, introvertito, sì. Sono introverso e timido. Quindi fare un video in pubblico è un po' troppo. Sì, sì, sì. Fare un'intervista… Non è facile. Non… Come dire? Ci vuole esperienza. Anch'io… Ogni volta che… Come dire? Mi metto a fare quei video lì, quando sto per iniziare ho sempre quella sensazione un po' di… Palle. Non lo so. Non voglio farlo. Trovo scuse. Dico, ah no, ma non c'è gente adatta per farlo. Quindi sì. Però poi va sempre bene. Ti faccio una domanda che è un… dietro le quinte. Vai. Io… Non le ho… So… So il tipo di video che stai riscrivendo, quindi… So che quando… Se io guardassi il video, vedrei le clip in cui tu hai parlato con queste persone. Ma prima di quel momento tu avvicini queste persone e chiedi scusate sto facendo un video, posso farvi una domanda del genere? E poi lo fai oppure subito vai veramente? Un po' e un po'. Ah ok. Nel senso poi ho fatto due video solo, quindi non è che… ne ho fatti venti, quindi ho un modo prestabilito di fare le cose. Però ho provato un po' e un po'. Però parlo subito in italiano. Ok. Quindi anche se… Anche se fosse. Anche se chiedo… Insomma, voglio un po' spiegare cosa sto facendo. Subito in italiano dico. Bello. Sto facendo un video per… Sono un insegnante di italiano, sto facendo un video per vedere quanto italiano capiscono gli spagnoli. E magari sapendo poi lo spagnolo e il portoghese lo faccio usando le parole che so che capiranno perché sono le più simili. Esatto. Quindi magari dico comprendono e non capiscono e questa cosa poi la mantengo anche durante poi l'intervista vera e propria perché… come dire… nel… ho questo… come dire… questo processo in mente che va avanti tipo cerchiamo di parlare in un modo che so che capiranno e… Esatto. Sviluppato anche facendo tante lezioni, cioè so immediatamente in base alla lingua del mio interlocutore che cosa sarà chiaro… Che cosa scegliere, esatto. E quindi… Ed è per questo che credo che un video vlog di intrattenimento in cui noi facciamo qualunque cretinata, facendolo noi due linguisti insegnanti di italiano, lo faremmo con questa idea che stiamo parlando per studenti di italiano. e quindi creeremmo contenuti fruibili e non… basta che ti vedi un vlogger italiano. È una cosa diversa quella… questa che… che mi è venuta in mente. Ma io sono timido ma se… se sono in compagnia sono meno timido. Quindi posso… Anche io sono comunque come te, di natura introverso. Ed è una cosa a cui nessuno crede quando lo dico. Magari alle persone che mi conoscono da YouTube. Perché… Esatto. Ma com'è possibile? In realtà… Sono cambiato facendo video, facendo questo lavoro. Però di natura… quella è la mia natura. Tu ti senti diverso dopo… Vabbè, adesso tu non fai tanti video, però immagino tu faccia comunque… Ah no, ma vabbè, io non faccio tanti video per YouTube… Ma sono sempre in telecamera per le lezioni dei corsi che abbiamo sulla piattaforma, le dirette sulla piattaforma… Il pubblico che non è studente di Telemedisi non mi vede, però io ancora faccio molti contenuti. Certo, certo. E questo ti ha aiutato? A me la cosa che… che ha aiutato all'inizio è stato essere insegnante all'università. Quindi parlare con un gruppo di 20 studenti. Poi fare le lezioni in aula magna con un gruppo di 150 studenti, magari. E… e quindi ho imparato a… a presentare il contenuto. E poi con YouTube credo la cosa che ho imparato col tempo e si vede andando a vedere i video vecchi. Ho imparato a usare la telecamera, nel senso a guardarla così, no? Invece di… di fare il video che guardo di qua e di là. Quindi ho migliorato la mia… quello che in inglese chiamerebbero la delivery del contenuto, no? Però sì, ancora… ancora timido, sicuramente. Ancora timido. Poi alla fine dipende sempre dal contesto, no? Spesso poi ci definiamo introversi, estroversi in generale, però dipende sempre dal contesto. Non è che uno è così sempre… Ma io credo che sentirsi capaci di affrontare l'argomento ti permette di essere meno introverso. Quindi se io dovessi fare una presentazione davanti a un pubblico di mille persone di lingua italiana in cui insegno qualcosa, eh, non avrei problemi. Sarebbe diverso se questa presentazione davanti a mille persone fosse su una cosa sulla quale non mi sento molto ferrato, no? Sono molto bravo e preparato. No, quello qui è un altro scenario ancora diverso, no? Parlare in pubblico. Beh, sì. Quella è una cosa che a me non piace molto, cioè perché non l'ho fatta molto e quindi quando mi capita raramente di farlo è sempre un po' ansiogeno. Quindi la tua timidezza, perché sto pensando allora come possiamo definire la nostra timidezza? Perché io amo le persone, a me piace parlare con gli sconosciuti, quindi non saprei dirti quando sono timido. Perché, per esempio, l'altro giorno a Napoli ti ho detto… È un percorso psicologico che ti porta a capire che in realtà non sei timido. No, invece sono estroverso e arrogante. E come ti fa sentire questo? Ma grazie mille per la seduta. Sì, adesso ti mando il conto. Sì, sì, sì. No, non so, secondo me dipende molto dal contesto, dalle persone, insomma, da tanti fattori, dalla conversazione, eccetera. Comunque, la tua idea è stata recepita molto bene. Sam dice… Ok, non so se era quella la tua idea, comunque… Valutiamo tutte le vostre idee. A me comunque piace… Ecco, sono sparito di nuovo per concludere in bellezza. No, mi piace la cosa, penso che si possa fare. Magari non adesso che ci sono 3.000 gradi. 3.000 gradi? No, no, quando fa più fresco. Però in un periodo un po' più fresco sì, assolutamente. Sono aperto a progetti di questo tipo. Perfetto, ok. Niente, dai, abbiamo parlato un sacco, come sempre. Spero tu ti sia divertito. Io ho bevuto un litro e mezzo d'acqua in questa chiacchierata. No, io sopravvivo con l'aria condizionata, fortunatamente. E quindi… Bene, dai, ci risentiamo comunque. Certamente. Andate a vedere quello che fa Manu, se non lo conoscete. Stiamo… Stiamo… Guarda, per il tuo pubblico… Una cosa… Come ho detto, il tuo pubblico viene dopo Italy Made Easy. Come il livello, no? Certo. È vero. In linea generale. Però una cosa che stiamo per ricominciare, credo il prossimo episodio uscirà a settembre, è il nostro podcast in italiano. E abbiamo… Un'altra cosa che per esempio noi facciamo nei podcast. Siccome non insegno… Non mi piace insegnare la grammatica in italiano, gli argomenti dei podcast sono culturali, sono generici. Quindi anche più facili da seguire perché l'argomento è prevedibile, più o meno, no? E quindi no, questa è una cosa che il tuo pubblico può andare a scoprire che è Italy Made Easy Podcast. Ok, vediamo se riesco… No, eh… Così lo butto pure in chat. Podcast, sì. Sul tuo sito. Beh, ma anche su iTunes… Sta anche su Spotify e iTunes e quel postellino. Ah, ok. Sì, sì. Beh, io metto questo, poi dimmi se è giusto. Ma io che ne so. Tu non conosci il tuo sito. Ma io guarda, io anzi non so se a quest'ora è ancora lì, però io prima di entrare in questa diretta ho parlato con Alessia che è la persona più importante di Italy Made Easy, più importante di Manu. E l'ho detto Ale, io sto per andare in diretta, se tu vuoi essere in chat per monitorare, se vuoi… come dire, se vuoi essere lì… E lei mi ha detto che ci sarebbe stata, quindi se sei ancora lì, Alessia, grazie mille, perché senza di te… Senza di te… Beh, in teoria ho messo due link qua in chat, però è vero anche che se li aprono magari spariscono dalla diretta, ma comunque magari li mettiamo in un commento dopo. D'Anecchio ha detto ci sta linkando a un virus. Al virus dell'amore per la lingua italiana. Esatto, è un virus, sì, è vero. Dai, grazie ancora, grazie a tutte le oltre 100 persone… Ah, ecco, è arrivata Alessia. È arrivata Alessia. Ok, beh, questi sono… ok, non si possono aprire così, però sono nella chat. No, vabbè. C'è il nome facile, Italy Made Easy Podcast, insomma. Basta cercare su Google come ho fatto io adesso. Esatto, sì, sì. Comunque, no, sono curioso di sentire i suggerimenti, i commenti quando li hai tutti raccolti sulla proposta che ho fatto, che mi è venuta adesso parlando, eh, nel senso… Come le migliori idee, no? Anche in Liga Romani che è nata come idea in una diretta. Ah, è nata in diretta? Vabbè, era sul canale di Leo. Mi sembra tra l'altro che tu abbia lasciato un messaggio pure, perché abbiamo fatto una diretta sul suo canale per i 100.000 iscritti. Sì. In questo format. Sì. E poi durante questa diretta io ho detto, ma perché non rendere questa cosa… Più regolare. Sì. Quindi sì, le idee migliori nascono, evidentemente. È vero, sì. E c'era un tuo commento lì. Lasciai un commento perché io avevo cominciato a seguire sia Linguriosa che Leo per interesse personale, per le lingue che insegnano e anche per il fatto che mi piaceva molto il loro stile. E quindi già li seguivo e poi un giorno seguivo questa diretta e c'eri tu. Che ci fa Davide lì? In questa stanza… Buia, è una stanza buia. Dove stavate? Era praticamente un Airbnb a Madrid molto particolare perché il proprietario era un artista un po'… Eclettico. Un po' particolare, dai. E quindi aveva tutta la sua arte appesa… tutto strano, no? Un appartamento molto grande però con tutti questi quadri e opere d'arte molto bizzarre. E quindi niente, eravamo in questa stanza a improvvisare questa diretta. Quindi sì, ho visto il tuo commento lì e non ti avevo mai visto commentare. Quindi dicevo… Ah, ma Manu esiste ancora. Cioè ti avevo perso un po' di vista. Manu non è un ologramma, è vero. Esatto, esiste davvero. Sì, sì. Va bene. Dai, finiamo la questione. No, no, ok, dimmi ancora. No, dicevo, io con il fatto che abbiamo creato questo impero, come dici tu, io mi concentro di più sulla parte didattica, l'insegnamento, i contenuti e per fortuna ho il team che… che fa le cose che da youtuber dovresti fare ma col tempo non ce la fai a farle. E quindi, per esempio, quello di commentare… noi ci stiamo muovendo più come azienda che come il canale di Manu. E quindi… perché alla fine molte della qualità dei nostri contenuti non è tutta farina del mio sacco, se conoscete l'espressione. È comunque una collaborazione di linguisti, di varie persone che… che collaborano con Italy Made Easy e insieme creiamo le cose. Quindi spesso… cioè io non vivo nei commenti, nella sezione dei commenti personalmente. Però ogni tanto entro, ogni tanto sì. Sì, 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 sì. Dovrò farlo anch'io prima o poi. Però tu… tu sei un vero imprenditore. Io sono uno che improvvisa cose. Però sì, è vero. La cosa di… avere persone che ti aiutano è importante, sì. Sennò finisci esaurito, come dicevamo prima. Finisci esaurito, esausto. Ma non è solo una questione di… di voler far crescere la tua attività, la tua azienda, il tuo business. È proprio una questione di poter aiutare più persone. Se tu passi dieci ore a settimana a fare commenti, sono dieci a giocare con i commenti, a interagire con i commenti, a pulire, a bloccare quello che fai. Sono dieci ore che non puoi dedicare a insegnare… a fare quello che invece lo studente cerca da noi. E quindi prima o poi devi per forza crescere. Sennò… sennò non cresci. Se tu non aggiungi la persona… Alessia è stata la prima persona che è entrata in Italy Made Easy. Certo. Un saluto ad Alessia se ti sta seguendo. E ancora sta con… Alessia ha avuto una pazienza di stare con Manu per quanti anni ha lavorato con me, poverina. Tanta pazienza, dici? Tanta pazienza, guarda! Tanta pazienza! Però… veramente, io non so quale altra persona sarebbe rimasta tutti questi anni. Beh, un saluto ad Alessia, allora, che… non so se ci ha seguito per due ore, però… Probabilmente sì. Va bene. C'è un commento di Sabine che è carino. Molto… molto gentile che non dimentichiate le persone dietro… sì, dietro i video. Sì. Dietro la telecamera. Sì, è vero, è vero. Bene. Vabbè. Allora, è stato veramente un piacere… Dai, è stato direttente un sacco di… Argomenti. È passato un sacco di tempo e comunque l'illuminazione ha retto perché pensavamo che sarebbe diventata notte e invece… Sta diventando più… è diventato sicuramente più buio. Io mi ero preparato con questa. adesso… chiudete gli occhi… me l'ero preparata… Dai, sei super preparato. Tu mi hai detto… ah, non so se potrò… guarda… C'è pure la luce. C'ho pure la luce. C'ho pure la luce. C'ho pure la luce. Tra un po' sei più preparato di me. Il canale è il tuo. Esatto. Va bene, dai, ci risentiamo per collaborare, fare cose, qualsiasi cosa. Sono aperto a tutto. Grazie ancora a tutti e ci sentiamo presto. Un saluto. Grazie a tutti, buona giornata, buonanotte. Ciao. Ciao, ciao.